Libro dei numeri, capitolo primo. Questi sono i nomi degli uomini che staranno con voi. Di Ruben, Elitzur, figliolo di Sheduer, di Simeone, Shelumier, figliolo di Zurisha Addadai, di Giuda, Nashon, figliolo di Amminadab, di Isacar, Netaner, figliolo di Suar, di Zabulon, Eliab, figliolo di Elom, e dei figlioli di Giuseppe, di Efraim, Elishama, figliolo di Amihud di Menasse, Galamiel, figliolo di Pedashur, di Beniamino, Abidam, figliolo di Gideoni, di Dan e Iaser, figliolo di Ammishedaddai, Addadai, di Asher, Pegiel, figliolo di Okra, di Gan, Eliasaf, figliolo di Deuel, di Neftali, Ahira, figliolo di Enan. Questi furono chiamati dal seno della radunanza i principi delle tribù dei loro padri, i capi delle migliaia di Israele. Mosè ed Aronne presero dunque questi uomini che erano stati designati per nome e convocarono tutta la radunanza il primo giorno del secondo mese e il popolo fu iscritto secondo le famiglie, secondo le case dei padri, contando il numero delle persone dai venti anni in su uno per uno. Come l'Eterno li aveva ordinato, Mosè ne fece il censimento nel deserto di Sinai. Figlioli di Ruben, primo genito di Israele, loro discendenti secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi di tutti i maschi, uno per uno, dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Ruben, dette la cifra di 46.500. Figlioli di Simeone, loro discendenti secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, scritti contando i nomi di tutti i maschi, uno per uno, dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Simeone, dette le cifre di 59.300. Figlioli di Gadd, loro discendenti secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Gadd, dette la cifra di 45.650. Figlioli di Issacar, loro discendenti secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Gadd, dette la cifra di 74.600. Figlioli di Issacar, loro discendenti secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Issacar, dette la cifra di 54.400. Figlioli di Giuseppe, figlioli di Ephraim, loro discendenti secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Issacar, dette la cifra di 57.400. Figlioli di Giuseppe, figlioli di Ephraim, loro discendenti secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Ephraim, dette la cifra di 40.500. Figlioli di Beniamino, loro discendenti secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Manasse, dette la cifra di 32.200. Figlioli di Dan, loro discendenti secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Beniamino, dette la cifra di 35.400. Figlioli di Dan, loro discendenti secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Dan, dette la cifra di 62.700. Figlioli di Asher, loro discendenti secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Asher, dette la cifra di 41.500. I figlioli di Neftali, loro discendenti secondo le loro famiglie, secondo le case dei loro padri, contando i nomi dall'età di vent'anni in su, tutti quelli che potevano andare alla guerra. Il censimento della tribù di Neftali, dette la cifra di 53.400. Questi sono quelli di cui Mosè ed Aaron fecero il censimento coi dodici uomini principi di Israele. Ce n'era uno per ognuna delle case dei loro padri. Così tutti i figlioli di Israele, dei quali fu fatto il censimento secondo le case dei loro padri dall'età di vent'anni in su, cioè tutti gli uomini che in Israele potevano andare alla guerra, tutti quelli dei quali fu fatto il censimento, furono 630.550. Ma i Leviti, come tribù dei loro padri, non furono compresi nel censimento con gli altri, poiché l'Eterno aveva parlato a Mosè dicendo «Soltanto della tribù di Levi non farai il censimento e ne unirai l'ammontare a quelli dei figlioli di Israele, ma affida ai Leviti la cura del tabernacolo della testimonianza di tutti i suoi utensili, di tutto ciò che gli appartiene. Essi porteranno il tabernacolo e tutti i suoi utensili ne faranno il servizio e staranno accampati intorno al tabernacolo. Quando il tabernacolo dovrà partire, i Leviti lo smonteranno, quando il tabernacolo dovrà accamparsi in qualche luogo, i Leviti lo rizzeranno e l'estraneo che gli si avvicinerà sarà messo a morte. I figlioli di Israele pianteranno le loro tende ognuno nel suo campo, ognuno vicino alla sua bandiera, secondo le loro schiere, ma i Leviti pianteranno le loro attorno al tabernacolo della testimonianza, affinché non si accenda l'Iramia contro la radunanza dei figlioli di Israele e i Leviti avranno cura del tabernacolo della testimonianza. I figlioli di Israele si conformarono in tutto agli ordini che l'Eterno aveva dato a Mosè e fecero così. Libro dei numeri, capitolo secondo L'Eterno parlò ancora a Mosè e ad Aronne dicendo I figlioli di Israele si accamparanno ciascuno vicino alla sua bandiera sotto le insegne delle case dei loro padri. Si accamperanno di faccia a tutto intorno alla tenda di convegno. Sul davanti verso oriente si accamperà la bandiera del campo di Giuda con le sue schiere e il principe dei figlioli di Giuda è Nasson figliolo di Amminadab e il suo corpo secondo il censimento è di settantaquattromila seicento uomini. Accanto a lui si accamperà la tribù di Zaccar il principe dei figlioli di Zaccar è Netnail figliolo di Tzuar e il suo corpo secondo il censimento è di cinquantaquattromila quattrocento uomini. Poi la tribù di Zabulon Il principe dei figlioli di Zabulon è Eliab figliolo di Elon e il suo corpo secondo il censimento è di cinquantasettemila quattrocento uomini. Il totale del censimento del campo di Giuda è dunque centottantaseimila quattrocento uomini secondo le loro schiere. Si metteranno in marcia i primi. A mezzogiorno starà la bandiera del campo di Ruben con le sue schiere. Il principe dei figlioli di Ruben è Elitzur figliolo di Sedeur e il suo corpo secondo il censimento è di cinquantaseimila quattrocento uomini. Accanto a lui si accamperà la tribù di Simeone il principe dei figlioli di Simeone è Shenulmiel figliolo di Suryashaddai e il suo corpo secondo il censimento è di cinquantanovemila trecento uomini. Poi la tribù di Gad e il principe dei figlioli di Gad è Eliasaf figliolo di Reuel e il suo corpo secondo il censimento è di quarantacinquemila seiscentocinquanta uomini. Il totale del censimento del campo di Ruben è dunque centocinquantamila quattrocentocinquanta uomini secondo le loro schiere. Si metteranno in marcia in seconda linea. Poi si metterà in marcia la tenda di convegno del campo dei Leviti in mezzo agli altri campi. Seguiranno nella marcia l'ordine nel quale sono accampati ciascuno al suo posto con la sua bandiera. Ad occidente starà la bandiera del campo di Efraim con le sue schiere. Il principe dei figlioli di Efraim è Elishama figliolo di Hammihud e il suo corpo secondo il censimento è di quarantamila cinquecento uomini. Accanto a lui si accamperà la tribù di Menasse. Il principe dei figlioli di Menasse è Gamaliel figliolo di Pedazur e il suo corpo secondo il censimento è di trentadduemila duecento uomini. Poi la tribù di Beniamino. Il principe dei figlioli di Beniamino è Abidam figliolo di Ghideoni e il suo corpo secondo il censimento è di trentacinquemila quattrocento uomini. Il totale del censimento del campo di Efraim è dunque centottantamila cento uomini secondo le loro schiere. Si metteranno in marcia in terza linea. A settentrione starà il campo di Dan con le sue schiere. Il principe dei figlioli di Dan è Ahieser figliolo di Amistadai e il suo campo secondo il censimento è di sessantadduemila settecento uomini. Accanto a lui si accamperà la tribù di Asher. Il principe dei figlioli di Asher è Pagier figliolo di Okram e il suo campo secondo il censimento è di quarantunmila cinquecento uomini. Poi la tribù di Neftali, il principe dei figlioli di Neftali, è Ahira figliolo di Enam. Il suo campo secondo il censimento è di cinquantatremila quattrocento uomini. Il totale del censimento del campo di Dan è dunque centocinquantasettemila seicento. Si metteranno in marcia gli ultimi secondo le loro bandiere. Questi furono i figlioli di Israele dei quali si fece censimento secondo le case dei loro padri. Tutti gli uomini dei quali si fece censimento e che formarono i campi secondo i loro corpi furono seicentotremilacinquecentocinquanta. Ma i Leviti, secondo l'ordine che l'Eterno aveva dato a Mosè, non furono compresi nel censimento coi figlioli di Israele. E i figlioli di Israele si conformarono in tutto agli ordini che l'Eterno aveva dati a Mosè. Così si accampavano secondo le loro bandiere e così si mettevano in marcia ciascuno secondo la sua famiglia, secondo la casa dei suoi padri. NUMERI CAPITOLO TERSO Or questi sono i discendenti di Aronne e di Mosè nel tempo in cui l'Eterno parlò a Mosè sul monte Sinai. Questi sono i nomi dei figlioli di Aronne. Nadab, il primogenito, Abihu, Eleazar e Itamar, tali i nomi dei figlioli di Aronne che ricevettero l'unzione come sacerdoti e furono consacrati per esercitare il sacerdozio. Nadab e Abihu morirono davanti all'Eterno quando offrirono fuoco straniero davanti all'Eterno nel deserto di Sinai. Essi non avevano figlioli. Ed Eleazar e Itamar esercitarono il sacerdozio in presenza di Aronne loro padre. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo, Fa avvicinare la tribù delle viti e ponila davanti al sacerdote Aronne affinché sia al suo servizio. Essi avranno la cura di tutto ciò che è affidato a lui e a tutta la radunanza davanti alla tenda di convegno e faranno così il servizio del tabernacolo. Avranno cura di tutti gli utensili della tenda di convegno e di quando è affidato ai figlioli di Israele e faranno così il servizio del tabernacolo. Tu darai i leviti ad Aronne e ai suoi figlioli essi gli sono interamente dati di tra i figlioli di Israele. Tu stabilirai Aronne e i suoi figlioli perché esercitano le funzioni del loro sacerdozio. Lo straniero che si accosterà all'altare sarà messo a morte. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo, Ecco, io ho preso i leviti di tra i figlioli di Israele in luogo di ogni primogenito che apre il seno materno tra i figlioli di Israele. E i leviti saranno miei poiché ogni primogenito è mio. Il giorno che io colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto io mi consacrai tutti i primi parti in Israele tanto degli uomini quanto degli animali saranno miei. Io sono l'Eterno. E l'Eterno parlò a Mosè nel deserto di Sinai dicendo, fa il censimento dei figlioli di Levi secondo le case dei loro padri secondo le loro famiglie farà il censimento di tutti i maschi dall'età di un mese in su. E Mosè ne fece il censimento secondo l'Ordine dell'Eterno come gli era stato comandato di fare. Questi sono i figlioli di Levi secondo i loro nomi. Gerson, Kehat, Merari questi i nomi dei figlioli di Gerson secondo le loro famiglie Libni e Shimei e i figlioli di Ketat secondo le loro famiglie Amran, Jitzehar, Ebron e Uziel e i figlioli di Merari secondo le loro famiglie Mali e Mushi Queste sono le famiglie delle Viti secondo le case dei loro padri. Da Gerson discendono la famiglia di Lipniti la famiglia dei Shimeiti che formano le famiglie dei Gersoniti questi dei quali fu fatto il censimento contando tutti i maschi dell'età di un mese in su furono 7500. Le famiglie dei Gersoniti avevano il campo dietro il tabernacolo a Occidente il principe della casa dei padri dei Gersoniti era Eliesaf figliolo di Leal per quel che concerne la tenda di convegno i figlioli di Gerson dovevano aver cura del tabernacolo e della tenda della sua coperta della portiera dell'ingresso della tenda di convegno delle tele del cortile e della portiera dell'ingresso del cortile tutto intorno al tabernacolo e all'altare e dei cordami per tutto il servizio del tabernacolo da Kehat discendono le famiglie degli Aramiti la famiglia degli Jitsheriti la famiglia degli Ebroniti e la famiglia degli Uzieliti che formano le famiglie dei Keatiti contando tutti i maschi dell'età di un mese in su furono 8600 incaricati della cura del santuario le famiglie dei figlioli di Kehat avevano il campo al lato meridionale del tabernacolo e il principe della casa dei padri dei Keatiti era Elitzafan figliolo di Uziel alle loro cure erano affidati l'arca la tavola e il candelabro gli altari e gli utensili del santuario con i quali si fa il servizio il velo e tutto ciò che si riferisce al servizio del santuario il principe dei principi dei Leviti era Eliazar figliolo del sacerdote Aronne egli aveva la sorveglianza di quelli che erano incaricati della cura del santuario da Merari dicendono le famiglie dei Maaliti e la famiglia dei Muschiti che formano le famiglie di Merari quelli di cui si fece il censimento contando tutti i maschi dall'età di un mese in su furono 6200 il principe della casa dei padri delle famiglie di Merari era Surriel figliolo di Abihail essi avevano il campo del lato settentrionale del tabernacolo alle cure dei figlioli di Merari furono affidate le tavole del tabernacolo le sue traverse le sue colonne e le loro basi tutti i suoi utensili e tutto ciò che si riferisce al servizio del tabernacolo le colonne del cortile tutto intorno le loro basi i loro pioli il loro cordame sul davanti del tabernacolo e a oriente di faccia alla tenda di convegno verso il sollevante avevano il campo Mosè Aronne e i suoi figlioli essi avevano la cura del santuario in luogo dei figlioli di Israele lo straniero che vi si fosse accostato sarebbe stato messo a morte tutti i leviti di cui Mosè ed Aronne fecero il censimento secondo le loro famiglie per l'ordine dell'Eterno tutti i maschi dall'età di un mese in su furono ventiduemila e l'Eterno disse a Mosè fai il censimento di tutti i primogeniti maschi tra i figlioli di Israele dall'età di un mese in su e fai il conto dei loro nomi prenderai i leviti per me io sono l'Eterno invece di tutti i primogeniti dei figlioli di Israele e il bestiame delle viti in luogo dei primi parti del bestiame dei figlioli di Israele e Mosè fece il censimento di tutti i primogeniti tra i figlioli di Israele secondo l'ordine che l'Eterno gli aveva dato tutti i primogeniti maschi di cui si fece il censimento contando i nomi dell'età di un mese in su furono ventiduemila duecentosettantatré e l'Eterno parlò a Mosè dicendo prendi le viti in luogo di tutti i primogeniti dei figlioli di Israele e il bestiame dei leviti in luogo del loro bestiame e i leviti saranno miei io sono l'Eterno per il riscatto dei duecentosettantatré primogeniti dei figlioli di Israele che oltrepassano il numero dei leviti prenderai cinque cicli a testa li prenderai secondo il ciclo del santuario che è di venti ghere darai il denaro ad Arone e ai suoi figlioli per il riscatto di quelli che oltrepassano il numero dei leviti e Mosè presi il denaro per il riscatto di quelli che oltrepassavano il numero dei primogeniti riscattati dai leviti presi il denaro dei primogeniti dei figlioli di Israele mille trecentosessantacinque cicli secondo il ciclo del santuario e Mosè dette il denaro del riscatto a Arone e ai suoi figlioli secondo l'ordine dell'Eterno come l'Eterno aveva ordinato a Mosè Numeri capitolo quarto l'Eterno parlò ancora a Mosè e ad Arone dicendo fate il conto dei figlioli di Cheat fra i figlioli di Levi secondo le loro famiglie secondo le case dei loro padri dall'età di trent'anni in su fino all'età di cinquant'anni di tutti quelli che possono assumere un ufficio per far opera della tenda di convegno questo è un servizio che i figlioli di Cheat avranno da fare nella tenda di convegno e che concerne le cose santissime quando il campo si muoverà Arone e i suoi figlioli verranno a smontare il velo di separazione e copriranno con esso l'arca della testimonianza poi porranno sull'arca una coperta di perli di delfino vi stenderanno sopra un panno tutto di stoffa violacea e vi metteranno al posto le stanghe poi stenderanno un panno violaceo sulla tavola dei panni della presentazione e vi metteranno su i piatti le coppe i bacini i calici per le libazioni e vi sarà su anche il pane perpetuo e su queste cose stenderanno un panno scarlato sopra tutto questo una coperta di pelle di delfino e metteranno le stanghe alla tavola poi prenderanno un panno violaceo col quale copriranno il candelabro le sue lampade le sue forbici i suoi smoccolatoi e tutti i suoi vasi d'olio destinati al servizio del candelabro metteranno il candelabro con tutti i suoi tensili in una coperta di pelli di delfino e lo porteranno sopra un paio di stanghe poi stenderanno sull'altare d'oro un panno violaceo e sopra questo una coperta di pelli di delfino e metteranno le stanghe all'altare e prenderanno tutti gli utensili di cui si fa uso per il servizio del santuario li metteranno in un panno violaceo li avvolgeranno in una coperta di pelli di delfino e li porteranno sopra un paio di stanghe poi toglieranno le sceneri dell'altare e stenderanno sull'altare un panno scarlato li metteranno su tutti gli utensili destinati al suo servizio i braceri i forchettoni le palette i bacini tutti gli utensili dell'altare e vi stenderanno su una coperta di pelli di delfino poi porranno le stanghe all'altare e dopo che Aronne e i suoi figlioli avranno finito di coprire il santuario e tutti gli arredi del santuario quando il campo si muoverà i figlioli di Keat verranno per portare queste cose ma non toccheranno le cose sante che non abbiano a morire queste sono le incombenze dei figlioli di Keat nella tenda di convegno ed Eleazar figliolo del sacerdote Aronne avrà l'incarico dell'olio per il candelabro del profumo fragrante dell'offerta perpetua e dell'olio dell'unzione e l'incarico di tutto il tabernacolo e di tutto ciò che contiene del santuario e dei suoi arredi poi l'Eterno parlò a Mosea ad Aronne dicendo badate che la tribù delle famiglie dei Keatiti non abbia ad essere sterminata di fra i leviti ma fate quello per loro affinché vivano e non muoiano quando si accosteranno al luogo santissimo Aronne e i suoi figlioli vengano e assegnano a ciascuno d'essi il proprio servizio e il proprio incarico e non entrino quelli a guardare anche per un istante le cose sante onde non muoiono l'Eterno parlò ancora a Mosea dicendo fai il conto anche dei figlioli di Gerson secondo le case dei loro padri secondo le loro famiglie farai il censimento dall'età di trent'anni in su fino all'età di cinquant'anni di tutti quelli che possono assumere un ufficio per far opera sulla tenda di convegno questo è il servizio delle famiglie dei Gersoniti quel che debbono fare e quello che debbono portare porteranno i teri del tabernacolo e la tenda di convegno e la sua coperta la coperta di pelli di delfino che ave sopra la portiera all'ingresso della tenda di convegno le cortine del cortile con la portiera dell'ingresso del cortile cortine che stanno tutte intorno al tabernacolo e all'altare e i loro cordami e tutti gli utensili destinati al loro servizio faranno tutto il servizio che si riferisce a queste cose tutto il servizio dei figlioli dei Gersoniti sarà sotto gli ordini di Aronne e dei suoi figlioli per tutto quello che dovranno portare e per tutto quello che dovranno fare voi affiderete alla loro cura tutto quello che debbono portare tale è il servizio delle famiglie dei figlioli dei Gersoniti nella tenda di convegno e l'incarico sarà eseguito agli ordini di Itamar figliolo del sacerdote Aronne farà il censimento dei figlioli di Merari secondo le loro famiglie secondo le case dei loro padri farà il censimento dell'età di trent'anni in su fino all'età di cinquant'anni di tutti quelli che possano assumere un ufficio per far l'opera nella tenda di convegno questo è quanto è affidato alle loro cure e quello che debbono portare in conformità di tutto il loro servizio della tenda di convegno le assi del tabernacolo le sue traverse le sue colonne le sue basi le colonne che sono intorno al cortile le loro basi i loro pioli i loro cordami tutti i loro utensili e tutto il servizio che vi si riferisce faranno l'inventario nominativo degli oggetti affidati alle loro cure e che si dovranno portare tale è il servizio delle famiglie dei figlioli di Merari tutto il loro servizio della tenda di convegno sotto gli ordini di Itamar figliolo del sacerdote Aronne Mosè e Aronne e i principi della radunanza fecero dunque il censimento dei figlioli di Cheatiti secondo le loro famiglie secondo le loro case dei padri di tutti quelli dall'età di trent'anni in su fino all'età di cinquant'anni potevano assumere un ufficio per fare l'opera della tenda di convegno e quelli di cui si fece il censimento secondo le loro famiglie furono duemila settecento cinquanta questi sono quelli delle famiglie dei Cheatiti dei quali si fece il censimento tutti quelli che esercitavano un qualche ufficio nella tenda di convegno Mosè ed Aronne li fecero il censimento secondo l'ordine che l'Eterno aveva dato per mezzo di Mosè i figlioni di Gerson di cui si fece il censimento secondo le loro famiglie secondo le case dei loro padri dall'età di trent'anni in su fino all'età di cinquant'anni tutti quelli che potevano assumere un ufficio per fare l'opera nella tenda di convegno quelli di cui si fece il censimento secondo le loro famiglie secondo le case dei loro padri furono duemila seicentotrenta questi sono quelli delle famiglie dei figlioli di Gerson di cui si fece il censimento tutti quelli che esercitavano un qualunque ufficio nella tenda di convegno Mosè ed Aronne ne fecero il censimento secondo l'ordine dell'Eterno quelli delle famiglie dei figlioli di Merari dei quali si fece il censimento secondo le loro famiglie secondo le famiglie dei loro padri dall'età di trent'anni in su fino all'età di cinquant'anni tutti quelli che potevano assumere un ufficio per fare l'opera nella tenda di convegno quelli di cui si fece il censimento secondo le loro famiglie furono tremila duecento questi sono quelli delle famiglie dei figlioli di Merari di cui si fece il censimento Mosè ed Aronne ne fecero il censimento secondo l'ordine che l'Eterno aveva dato per mezzo di Mosè tutti i leviti dei quali Mosè e Aronne e i principi di Israele fecero il censimento secondo le loro famiglie e secondo le case dei loro padri dall'età di trent'anni in su fino all'età di cinquant'anni tutti quelli che potevano assumere l'ufficio di servitori nell'ufficio di portatori nella tenda di convegno tutti quelli di cui si fece il censimento furono 8580 ne fu fatto il censimento secondo l'ordine che l'Eterno aveva dato per mezzo di Mosè assegnando a ciascuno il servizio che doveva fare e quello che doveva portare così ne fu fatto il censimento come l'Eterno aveva ordinato a Mosè numeri capitolo quinto poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo ordina ai figlioli di Israele che mandino fuori del campo ogni lebroso chiunque ha la gonorrea o è impuro per il contatto con qualche morto maschi o femmine che siano li manderete fuori li manderete fuori dal campo perché non contaminano il loro campo in mezzo al quale io abito i figlioli di Israele fecero così e li mandarono fuori del campo come l'Eterno aveva detto a Mosè così fecero i figlioli di Israele l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo di ai figlioli di Israele quando un uomo o una donna avrà fatto un torto a qualcuno commettendo un'infedeltà rispetto all'Eterno e questa persona si sarà così resa colpevole e la confesserà il peccato commesso restituirà per intero il corpo del delitto aggiungendovi in più un quinto e lo darà a colui verso il quale si è resa colpevole ma se questi non ha prossimo parente a cui possa restituire il corpo del delitto questo corpo del delitto restituito spetterà all'Eterno cioè al sacerdote oltre al montone espiatorio mediante il quale si farà l'espiazione per il colpevole ogni offerta elevata di tutte le cose consacrate che i figlioli di Israele presenteranno al sacerdote sarà del sacerdote le cose che uno consacrerà saranno del sacerdote ciò che uno darà al sacerdote apparterrà a lui l'Eterno parlò ancora Mosè dicendo parla ai figlioli di Israele di loro se una donna si svia dal marito e commette una infedeltà contro di lui se uno ha relazioni carnali con lei e la cosa è nascosta agli occhi del marito se la si è contaminata in segreto senza che vi siano testimoni contro di lei o che la sia stata colta sul fatto ove lo spirito di gelosia si impossessi del marito e questi diventi geloso della moglie che si è contaminata ovvero lo spirito di gelosia si impossessi di lui e questi diventi geloso della moglie che non si è contaminata quell'uomo condurrà la moglie al sacerdote e porterà un'offerta per lei un decimo defa di farina d'orzo non vi spanderà sopra l'olio né vi metterà sopra incenso perché è un'oblazione di gelosia un'oblazione commemorativa destinata a ricordare un'iniquità il sacerdote farà avvicinare la donna e la farà stare in piedi davanti all'eterno poi il sacerdote prenderà dell'acqua santa in un vaso di terra prenderà pure della polvere che è sul suolo del tabernacolo e la metterà nell'acqua il sacerdote farà quindi stare la donna in piedi davanti all'eterno le scoprirà il capo e porrà in mano di lei l'oblazione commemorativa che è l'oblazione di gelosia e il sacerdote avrà in mano l'acqua amara che reca maledizione il sacerdote farà giurare quella donna e le dirà se nessun uomo ha dormito teco e se non ti sei sviata per contaminarti ricevendo un altro invece del tuo marito quest'acqua amare che arreca maledizione non ti farà danno ma se ti sei sviata ricevendo un altro uomo invece del tuo marito e ti sei contaminata e altri che il tuo marito ha dormito teco allora il sacerdote farà giurarle la donna con un giuramento di imprecazione e le dirà l'eterno faccia di te un oggetto di maledizione e di esecrazione fra il tuo popolo facendoti smagrire i fianchi e gonfiare il ventre e quest'acqua che arreca maledizione t'entri nelle viscere per farti gonfiare il ventre e smagrare i fianchi e la donna dirà amen amen poi il sacerdote scriverà queste imprecazioni in un rotolo e le cancellerà con l'acqua amara farà bere alla donna quell'acqua amara che arreca maledizione e l'acqua che arreca maledizione entrerà in lei per produrre amarezza e il sacerdote prenderà dalle mani della donna l'oblazione di gerosia agiterà l'oblazione davanti all'eterno e lo offrirà sull'altare e il sacerdote prenderà una manata di un'oblazione come ricordanza e la farà fumare sull'altare poi farà bere l'acqua alla donna e quando le avrà fatto bere l'acqua verrà che se la si è contaminata ed ha commesso una infedeltà contro il marito l'acqua che arreca maledizione entrerà in lei per produrre amarezza il ventre le si gonfierà e i suoi fianchi smagriranno e quella donna diventerà un oggetto di maledizione in mezzo al suo popolo ma se la donna non si è contaminata ed è pura sarà riconosciuta innocente ed avrà dei figlioli questa è la legge relativa alla gelosia per il caso in cui la moglie di uno si svì ricevendo un altro invece del suo marito e si contamini e per il caso in cui lo spirito di gelosia si impossessi del marito e questi diventi geloso della moglie egli farà comparire sua moglie davanti all'eterno e il sacerdote le applicherà questa legge integralmente il marito sarà immune da colpa ma la donna porterà la pena della sua iniquità numeri capitolo sesto l'eterno parlò ancora a Mosè dicendo parla ai figlioli di Israele di loro quando un uomo o una donna avrà fatto un voto speciale il voto di nazireato per consacrarsi all'eterno si asterrà dal vino e dalle bevande alcoliche non berrà aceto fatto di vino né aceto fatto di bevanda alcolica non berrà liquori tratti dall'uva e non mangerà uva né fresca né secca tutto il tempo del suo nazireato non mangerà alcun prodotto della vigna degli acini della buccia tutto il tempo del suo voto nazireato il rasoio non passerà sul suo capo fino a che siano compiuti i giorni per i quali e si è consacrato all'eterno sarà santo si lascerà crescere liberamente i capelli sul capo tutto il tempo che è consacrato all'eterno non si accosterà al corpo morto si trattasse anche di un suo padre di sua madre del suo fratello della sua sorella non si contaminerà per loro alla loro morte perché porta sul capo il segno della sua consacrazione a dio tutto il tempo del suo nazireato egli è consacrato e l'eterno e se uno gli muore accanto improvvisamente e il suo capo consacrato rimane così contaminato si raderà il capo il giorno della sua purificazione se lo raderà il settimo giorno l'ottavo giorno porterà due tortere o due giovani piccioni al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno e il sacerdote ne offrirà uno come sacrificio per il peccato e l'altro come olocausto e farà per lui l'espiazione del peccato che ha commesso a cagione di quel morto e in quel giorno stesso il nazireo consacrerà così il suo capo consacrerà di nuovo all'eterno i giorni del suo nazireato e offrirà un agnello dell'anno come sacrificio di riparazione i giorni precedenti non saranno contati perché il suo nazireato è stato contaminato questa è la legge dal nazireato quando i giorni del suo nazireato saranno compiuti lo si farà venire all'ingresso della tenda di convegno ed egli presenterà la sua offerta all'eterno un agnello dell'anno senza difetto per l'olocausto una pecora dell'anno senza difetto per il sacrificio per il peccato e un montone senza difetto per il sacrificio di azioni di grazie un paniere di pane e azimi e azimi fatti con fiori di farina e di focaccia intrise con olio di gallette senza lievito unte d'olio insieme con l'oblazione e le libazioni relative il sacerdote presenterà queste cose davanti all'eterno e offrirà il suo sacrificio per il peccato e il suo olocausto offrirà il montone come sacrificio di azioni di grazia all'eterno col paniere dei pani e azimi e il sacerdote offrirà pure l'oblazione e la libazione il nazireo raderà all'ingresso della tenda di convegno il suo capo consacrato prenderà i capelli del suo capo consacrato e li metterà sul fuoco che è sotto il sacrificio di azioni di grazie il sacerdote prenderà la spalla del montone quando sarà cotta una focaccia non lievitata dal paniere una galletta senza lievito e le porrà nelle mani del nazireo dopo che questi avranno raso il suo capo consacrato il sacerdote le agiterà come offerta agitata davanti all'eterno e cosa santa che appartiene al sacerdote assieme al petto dell'offerta agitata e della spalla dell'offerta elevata dopo questo il nazireo potrà bere del vino tale la legge relativa a colui che ha fatto voto di nazireato tale la sua offerta all'eterno per il suo nazireato oltre quello che i suoi mezzi gli permetteranno di fare egli escerà secondo il voto che avrà fatto conformemente alla legge del suo nazireato l'eterno parlò ancora a Mosè dicendo parla ad Aronne e ai suoi figlioli e di loro voi benedirete così i figlioli di Israele direte loro l'eterno ti benedica e ti guardi l'eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio l'eterno volga verso di te il suo volto e ti dia pace così metteranno il mio nome e i suoi figlioli di Israele io li benedirò capitolo settimo il giorno che Mosè ebbe finito di rizzare il tabernacolo e l'ebbe unto e consacrato con tutti i suoi tensili quando ebbe rizzato l'altare con tutti i suoi tensili e li ebbe unti e consacrati i principi di Israele capi delle casse dei loro padri che erano i principi delle tribù e avevano preseduto al censimento presentarono un'offerta e la portarono davanti all'eterno sei carri lettiga e dodici buoi vale a dire un carro per due principi e un bove per ogni principe e li offrirono davanti al tabernacolo e l'eterno parlò a Mosè dicendo prendeli da loro per impiegarli al servizio della tenda di convegno e dalle alle viti a ciascuno secondo le sue funzioni Mosè prese dunque i carri e i buoi e li dette ai leviti dette due carri e quattro buoi ai figlioli di Gerson secondo le loro funzioni dette quattro carri e otto buoi ai figlioli di Merari secondo le loro funzioni sotto la sorveglianza di Itmar figliolo del sacerdote Aronne ma ai figlioli di Kehat non ne diete punti perché avevano il servizio degli oggetti sacri e dovevano portarli sulle spalle e i principi presentarono la loro offerta per la dedicazione dell'altare il giorno che esso fu unto i principi presentarono la loro offerta davanti all'altare e l'Eterno disse a Mosè i principi presenteranno la loro offerta uno per giorno per la dedicazione dell'altare colui che presentò la sua offerta il primo giorno fu Nashlon figliolo di Amminadab della tribù di Giuda e la sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 cicli un bacino d'argento di 70 cicli secondo il ciclo del santuario ambe due pieni di fior di farina intrisa con olio per l'oblazione una coppa d'oro di 10 cicli piena di profumo un giovenco un montone un agnello dell'anno per l'olocausto un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di azioni di grazie due buoi cinque montoni cinque capri cinque agnelli dell'anno tale fu l'offerta di Nashlon figliolo di Amminadab il secondo giorno Netanahil figliolo di Tsuar principe di Isakar presentò la sua offerta offrì un piatto d'argento del peso di 130 cicli un bacino d'argento di 70 cicli secondo il ciclo del santuario ambe due pieni di fior di farina intrisa con olio per l'oblazione una coppa d'oro di 10 cicli piena di profumo un giovenco un montone un agnello dell'anno per l'olocasto un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di azioni di grazie due buoi cinque montoni cinque capri cinque agnelli dell'anno tale fu l'offerta di Tenanahil figliolo di Tsuar il terzo il terzo giorno Eliab figliolo di Elom principe di figlioli di Zabulon la sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 cicli un bacino d'argento di 70 cicli secondo il ciclo del santuario ambe due pieni di fior di farina intrisa con olio per l'oblazione una coppa d'oro di dieci cicli piena di profumo un giovenco un montone un agnello dell'anno per l'olocausto un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio da rendere grazie due buoi cinque montoni cinque capri cinque agnelli dell'anno tale fu l'offerta di Eliab figliolo di Elom Il quarto giorno fu Elitzur figliolo di Cedeur principe dei figlioli di Ruben la sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 cicli un bacino d'argento di 70 cicli secondo il ciclo del santuario ambe due pieni di fior di farina intrisa con olio per l'oblazione una coppa d'oro di dieci cicli piena di profumo un giovenco un montone un agnello dell'anno per l'olocausto un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di azioni di grazie due buoi cinque montoni cinque capri cinque agnelli dell'anno tale fu l'offerta di Elitzur figliolo di Cedeur il quinto giorno fu Cerumier figliolo di Tsurishadei principe dei figlioli di Simeone la sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 cicli un bacino di 70 cicli secondo il ciclo del santuario ambe due pieni di fior di farina intrisa di olio per l'obbleazione una coppa d'oro di dieci cicli piena di profumo un giovenco un montone un agnello dell'anno per l'olocausto un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di azioni di grazie due buoi cinque montoni cinque capri cinque agnelli dell'anno tale fu l'offerta di Shelumier figliolo di Tsurishadai il sesto giorno fu Eliassaf figliolo di Dehuel principe dei figlioli di Gad la sua offerta fu un piatto d'argento del peso di 130 cicli un bacino d'argento di 70 cicli secondo il ciclo del santuario ambe due pieni di fior di farina intrisa con olio per l'obbleazione una coppa d'oro di dieci cicli piena di profumo un giovenco un montone un agnello dell'anno per l'olocausto un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di azioni di grazie due buoi cinque montoni cinque capri cinque agnelli dell'anno tale fu l'offerta di Eliassaf figliolo di Dehuel il settimo giorno fu Elishama figliolo di Amihud principi dei figlioli di Efraim la sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta cicli un bacino d'argento di settanta cicli secondo il ciclo del santuario ambe due pieni di fior di farina intrisa con olio per l'obbleazione una coppa d'oro di dieci cicli piena di profumo e un giovenco un montone un agnello dell'anno per l'olocausto un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di azioni di grazie due buoi cinque montoni cinque capri cinque agnelli dell'anno tale fu l'offerta dell'isciama figliolo di Amihud l'ottavo giorno fu Gamaliel figliolo di Pedazur principe dei figlioli di Menasse la sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta cicli un bacino d'argento di settanta cicli secondo il ciclo del santuario ambe due pieni di fior di farina intrisa con olio per le oblazioni una coppa d'oro di dieci cicli piena di profumo un giovenco un montone un agnello dell'anno per l'olocausto un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di azioni di grazie due buoi cinque montoni cinque capri cinque agnelli dell'anno tale fu l'offerta di Gamaliel figliolo di Pedazur il nono giorno fu Abidam figliolo di Gideoni principe dei figlioli di Beniamino la sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta cicli un bacino d'argento di settanta cicli secondo il ciclo del santuario ambe due pieni di fior di farina intrisa con olio per l'obliazione una coppa d'oro di dieci cicli piena di profumo un giovenco un montone un agnello dell'anno per l'olocausto un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di azioni di grazie due buoi cinque montoni cinque capri cinque agnelli dell'anno tale fu l'offerta di abidam figliolo di gideoni il decimo giorno fu ahizzer figliolo di ammishaddai principe dei figlioli di dan la sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta cicli un bacino di settanta cicli secondo il ciclo del santuario ambe due pieni di fior di farina intrisa con l'olio per l'oblazione una coppa d'oro di dieci cicli piena di profumo un giovenco un montone un agnello dell'anno per l'olocausto un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di azioni di grazie due buoi cinque montoni cinque capri cinque agnelli dell'anno tale fu l'offerta di aezer figliolo di amishadai l'undicesimo giorno fu peghiel figliolo di ocram principe dei figlioli di asher la sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta cicli un bacino d'argento di settanta cicli secondo il ciclo del santuario ambe due pieni di fior di farina intrisa con olio per l'oblazione una coppa d'oro di dieci cicli piena di profumo e un giovenco un montone un agnello dell'anno per l'olocausto un capro per il peccato e per il sacrificio di azione di grazie due buoi cinque montoni cinque capri cinque agnelli dell'anno tale fu l'offerta di peghiel figliolo di ocram il dodicesimo giorno fu ahira figliolo di enam principe dei figlioli di neftali la sua offerta fu un piatto d'argento del peso di centotrenta cicli un bacino d'argento di settanta cicli secondo il ciclo del santuario ambe due pien di fior di farina entrisa d'olio per l'oblazione una coppa d'oro di dieci cicli piena di profumo un giovenco un montone un agnello dell'anno per l'olocausto un capro per il sacrificio per il peccato e per il sacrificio di azioni di grazie due buoi cinque montoni cinque capri cinque agnelli dell'anno tale fu l'offerta di ahira figliolo di enam questi furono i doni per la dedicazione dell'altare da parte dei principi di israele il giorno in cui esso fu unto dodici piatti d'argento dodici bacini d'argento dodici coppe d'oro ogni piatto d'argento pesava centotrenta cicli centosettanta e il totale dell'argento dei vasi fu duemila quattrocento cicli secondo il ciclo del santuario dodici coppe d'oro piene di profumo le quali a dieci cicli per coppa secondo il ciclo del santuario dettero per l'oro delle coppe un totale di cento venti cicli totale del bestiame per l'olocausto dodici giovenchi dodici montoni dodici agnelli dell'anno totale del bestiame per il sacrificio di azioni di grazie ventiquattro giovenchi sessanta montoni sessanta capri sessanta agnelli dell'anno tali furono i doni per la dedicazione dell'altare dopo che esso fu unto e quando Mosè entrava nella tenda di convegno per parlare con l'Eterno udiva la voce che gli parlava dall'alto del propiziatorio che è sull'arca della testimonianza fra i due cherubini e l'Eterno gli parlava numeri capitolo ottavo l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo parla ad Arone e digli quando collocherai le lampade le sette lampade dovranno proiettare la luce sul davanti del candelabro e Arone fece così collocò le lampade in modo che facessero luce sul davanti del candelabro come l'Eterno aveva ordinato a Mosè or il candelabro era fatto così era d'oro battuto tanto la sua base quanto i suoi fiori erano lavorati al martello Mosè aveva fatto il candelabro secondo il modello che l'Eterno gli aveva mostrato e l'Eterno parlò a Mosè dicendo prendi le viti di fra i figliuoli di Israele e purificali e per purificarli farai così li aspergerai con acqua dell'espiazione essi faranno passare il rasoio su tutto il loro corpo laveranno le loro vesti e si purificheranno poi prenderanno un giovenco con l'oblazione ordinaria di fior di farina intrisa con olio e tu prenderai un altro giovenco per il sacrificio per il peccato farai avvicinare i leviti dinanzi alla tenda di convegno e convocherai tutta la radunanza dei figlioli di Israele farai avvicinare i leviti dinanzi all'Eterno e i figlioli di Israele posteranno le loro mani sui leviti e Arone presenterà i leviti come offerta agitata davanti all'Eterno da parte dei figlioli di Israele ed essi faranno il servizio dell'Eterno poi i leviti posteranno le loro mani sulla testa degli giovenchi e tu ne offrirai uno come sacrificio per il peccato e l'altro come olocausto all'Eterno per fare l'espiazione per i leviti e farai stare i leviti in piedi davanti ad Arone e davanti ai suoi figlioli e li presenterai come un'offerta agitata all'Eterno così separerai i leviti di tre figlioli di Israele e i leviti saranno miei dopo questo i leviti verranno a fare il servizio della tenda di convegno e tu li purificherai e li presenterai come un'offerta agitata poiché mi sono interamente dati di tre figlioli di Israele e li ho presi per me invece di tutti quelli che aprono il seno materno dai primogeniti di tutti i figlioli di Israele poiché tutti i primogeniti dei figlioli di Israele tanto gli uomini quanto del bestiame sono miei io me li consacrai il giorno che percorsi tutti i primogeniti nel paese d'Egitto e ho preso i leviti invece di tutti i primogeniti dei figlioli di Israele e ho dato in dono ad Arone e ai suoi figlioli i leviti di tre figlioli di Israele perché facciano il servizio dei figlioli di Israele nella tenda di convegno e perché facciano l'espiazione per i figlioli di Israele onde nessuna piaga scoppi tra i figlioli di Israele per loro accostarsi al santuario e così fecero Mosè e Arone tutta la radunanza dei figlioli di Israele rispetto ai leviti e i figlioli di Israele fecero a loro riguardo tutto quello che l'Eterno aveva ordinato a Mosè relativamente a loro e i leviti si purificarono e lavarono le loro vesti e Arone li presentò come un'offerta citata davanti all'Eterno e fece l'espiazione per essi per purificarli dopo questo i leviti vennero a fare il loro servizio nella tenda di convegno in presenza di Arone e dei suoi figlioli si fece rispetto ai leviti secondo l'ordine dell'Eterno aveva dato a Mosè circa loro e l'Eterno parlò a Mosè dicendo questo è quel che concerna i leviti da venticinque anni in su il levita entrerà in servizio per esercitare un ufficio nella tenda di convegno e dall'età di cinquant'anni si ritirerà dall'esercizio dell'ufficio e non servirà più potrà assistere i suoi fratelli nella tenda di convegno sorvegliando ciò che è affidato nelle loro cure ma non farà più servizio così farai rispetto ai leviti per quel che concerne i loro uffici L'Eterno parlò ancora a Mosè nel deserto di Sinai il primo mese del secondo anno che furono usciti dal paese d'Egitto dicendo i figlioli di Israele celebreranno la Pasqua nel tempo stabilito la celebrerete nel tempo stabilito il quattordicesimo giorno di questo mese sull'imbrunire la celebrerete secondo tutte le leggi e secondo tutte le prescrizioni che vi si riferiscono e Mosè parlò ai figlioli di Israele perché celebrassero la Pasqua ed essi celebrarono la Pasqua il quattordicesimo giorno del primo mese sull'imbrunire nel deserto di Sinai i figlioli di Israele si conformarono a tutti gli ordini che l'Eterno aveva dato a Mosè or verono degli uomini che essendo impuri perché avevano toccato un morto non potevano celebrare la Pasqua in quel giorno si presentarono in quello stesso giorno davanti a Mosè e davanti ad Aronne e quegli uomini dissero a Mosè noi siamo impuri per aver toccato un morto perché ci sarebbe di tolto di poter consacrare l'offerta all'Eterno al tempo stabilito in mezzo ai figlioli di Israele e Mosè rispose loro aspettate e sentirò quel che l'Eterno ordinerà a vostro riguardo e l'Eterno parlò a Mosè dicendo parla ai figlioli di Israele di loro se uno di voi o dei vostri discendenti sarà impuro per il contatto con un morto o sarà lontano in viaggio celebrerà lo stesso la Pasqua in onore dell'Eterno la celebreranno il quattordicesimo giorno del secondo mese sull'imbrunire la mangeranno con del pane senza lievito e con delle erbe amare non ne lasceranno nulla di resto fino al mattino e non ne spezzeranno alcun osso la celebreranno secondo le leggi della Pasqua ma colui che è puro che non è in viaggio e che s'astiene dal celebrare la Pasqua quel tale sarà sterminato di fra il suo popolo siccome non ha presentato l'offerta all'Eterno nel tempo stabilito quel tale porterà la pena del suo peccato e se uno straniero che soggiorna tra voi celebra la Pasqua e la Pasqua dell'Eterno si conformerà la legge e le prescrizioni della Pasqua avrete un'unica legge per lo straniero e per il nativo del paese or il giorno in cui il tabernacolo fu eretto la nuvola coprì il tabernacolo la tenda della testimonianza e dalla sera fino alla mattina aveva sul tabernacolo l'aspetto di un fuoco così avveniva sempre la nuvola copriva il tabernacolo e di notte aveva l'apparenza di un fuoco e tutte le volte che la nuvola salzava di sulla tenda i figlioli di Israele si mettevano in cammino dove la nuvola si fermava qui i figlioli di Israele si accampavano i figlioli di Israele si mettevano in cammino all'ordine dell'Eterno e all'ordine dell'Eterno si accampavano rimanevano accampati tutto il tempo che la nuvola restava sul tabernacolo e quando la nuvola rimaneva per molti giorni sul tabernacolo i figlioli di Israele osservavano le prescrizioni dell'Eterno e non si muovevano e se avveniva che la nuvola rimanesse pochi giorni sul tabernacolo all'ordine dell'Eterno rimanevano accampati e all'ordine dell'Eterno si mettevano in cammino e se la nuvola si fermava dalla sera alla mattina e si alzava la mattina si mettevano in cammino o se dopo un giorno e una notte la nuvola si alzava si mettevano in cammino se la nuvola rimaneva ferma sul tabernacolo due giorni o un mese o un anno i figlioli di Israele rimanevano accampati e non si muovevano ma quando si alzava si mettevano in cammino all'ordine dell'Eterno si accampavano e all'ordine dell'Eterno si mettevano in cammino osservando le prescrizioni dell'Eterno secondo l'ordine trasmesso dall'Eterno per mezzo di Mosè Numeri capitolo decimo l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo fatti due trombe d'argento le farei d'argento battuto e ti serviranno per convocare la radunanza e per far muovere i campi al suon d'esse tutta la radunanza si raccoglierà presso di te all'ingresso della tenda di convegno al suono d'una tromba sola i principi i capi delle migliaia di Israele si muoveranno presso di te quando suonerete a lungo e forti squilli i campi che sono a levante si metteranno in cammino quando suonerete una seconda volta a lunghi e forti squilli i campi che si trovano a mezzogiorno si metteranno in cammino si suonerà a lunghi e forti squilli quando dovranno mettersi in cammino quando deve essere convocata la radunanza suonerete ma non a lunghi e forti squilli e i sacerdoti figliuoli d'Aron suoneranno le trombe sarà una legge perpetua per voi e per i vostri discendenti quando nel vostro paese andrete alla guerra contro il nemico che vi attaccherà suonerete a lunghi e forti squilli con le trombe e sarete ricordati dinanzi all'eterno al vostro Dio e sarete così liberati dai vostri nemici così pure nei vostri giorni di gioia nelle vostre solennità e al principio dei vostri mesi suonerete con le trombe quando offrite i vostri locausti e i vostri sacrifici di azioni di grazia ed esse vi faranno ricordare nel cospetto del vostro Dio io sono l'eterno il vostro Dio ora venne che il secondo anno il secondo mese il ventesimo giorno del mese la nuvola s'alzò di sopra il tabernacolo della testimonianza e i figlioli di Israele partirono dal deserto di Sinai secondo l'ordine fissato per le loro marce e la nuvola si fermò nel deserto di Paran così si misero in cammino la prima volta secondo l'ordine dell'Eterno trasmesso per mezzo di Mosè la bandiera del campo dei figlioli di Giuda diviso secondo le loro schiere si mosse la prima Nashon figliolo di Amminadab comandava l'esercito di Giuda Netani il figliolo di Tsuar comandava l'esercito della tribù dei figlioli di Issacar ed Eliab figliolo di Elon comandava l'esercito della tribù dei figlioli di Zabulon il tabernacolo fu smontato e i figlioli di Gerson e i figlioli di Merari si misero in cammino portando il tabernacolo poi si mosse la bandiera del campo di Ruben diviso secondo le sue schiere Elisur figliolo di Sheddu Deur comandava l'esercito di Ruben Shelumir figliolo di Sur Rishaddai comandava l'esercito della tribù dei figlioli di Simeone Eliasaf figliolo di Deuel comandava l'esercito della tribù dei figlioli di Gad poi si mossero i cheatiti portando gli oggetti sacri e gli altri rizzavano il tabernacolo prima che quelli arrivassero poi si mosse la bandiera del campo dei figlioli di Efraim diviso secondo le sue schiere Elisciama figliolo di Ammihud comandava l'esercito di Efraim Gamaliel figliolo di Pedatzur comandava l'esercito della tribù dei figlioli di Menasse e Abidat figliolo di Ghideoni comandava l'esercito della tribù dei figlioli di Beniamino poi si mosse la bandiera del campo dei figlioli di Dan diviso secondo le sue schiere formando la retroguardia di tutti i campi Aiezer figliolo di Ammihud comandava l'esercito di Dan Pagiel figliolo di Orean comandava l'esercito della tribù dei figlioli di Asce e Aira figliolo di Enan comandava l'esercito della tribù dei figlioli di Neftali tale era l'ordine in cui i figlioli di Israele si misero in cammino secondo le loro schiere e così partirono Or Mosè disse a Obab figliolo di Reuel medianita suocero di Mosè Noi ci incamminiamo verso il luogo del quale l'Eterno ha detto io ve lo darò vieni con noi e ti faremo del bene perché l'Eterno ha promesso di far del bene a Israele Obab gli rispose io non verrò ma andrò al mio paese e da miei parenti e Mosè disse De non ci lasciare poiché tu conosci i luoghi dove dovremo accamparci nel deserto e sarai la nostra guida e se vieni con noi qualunque bene l'Eterno farà a noi noi lo faremo a te così partirono dal monte dell'Eterno e fecero tre giornate di cammino e l'arca del patto dell'Eterno andava avanti a loro durante le tre giornate di cammino per cercare loro un luogo di riposo e la nuvola dell'Eterno era su loro durante il giorno quando partivano dal campo quando l'arca partiva Mosè diceva levati o Eterno e siano dispersi i tuoi nemici e fuggano dinnanzi alla tua presenza quelli che t'odiano e quando si posava diceva torna o Eterno alle miriadi delle schiere di Israele numeri capitolo undicesimo ora il popolo fece giungere empi mormori agli orecchi dell'Eterno e come l'Eterno gli udì la sua ira si accese il fuoco dell'Eterno divampò fra loro e divorò l'estremità del campo e il popolo gridò a Mosè Mosè pregò l'Eterno e il fuoco si spense e a quel luogo fu posto nome Tabarrat perché il fuoco dell'Eterno aveva divampato fra loro e la cozzaglia di gente raccogliticcia che era fra il popolo fu presa da concupiscenza e anche i figlioli di Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire che ci darà da mangiare della carne ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto per nulla dei cocomeri dei poponi dei porri delle cipolle dell'agli ed ora l'anima nostra è inaridita non c'è più nulla gli occhi nostri non vedano altro che questa manna or la manna era simile al seme di coriandolo e aveva l'aspetto di obdellio il popolo andava attorno a raccoglierla poi la riduceva in farina con le macine o la pestava nel mortaio la faceva cuocere in pentolo o ne faceva delle focacce e aveva il sapore di una focaccia con l'olio quando la rugiada cadeva sul campo la notte vi cadeva anche la manna e Mosè udì il popolo che piagnucolava in tutte le famiglie ognuno all'ingresso della propria tenda e l'ira dell'Eterno si accese gravemente e la cosa dispiacque anche a Mosè e Mosè disse all'Eterno perché hai trattato così male il tuo servo perché non ho io trovata grazia agli occhi tuoi che tu m'abbia messo addosso il carico di tutto questo popolo l'ho forse concepito io tutto questo popolo o l'ho io forse dato alla luce io che tu mi dica portalo sul tuo seno come il balio porta il bambino lattante fino al paese che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri d'onde dove avrei della carne da dare a tutto questo popolo poiché piagnucola dietro di me dicendo dacci da mangiare della carne io non posso da me solo portare tutto questo popolo è un peso troppo grave per me se mi vuoi trattare così uccidimi ti prego uccidimi se ho trovato grazia agli occhi tuoi e che io non vega la mia sventura e l'eterno disse a Mosè radunami settanta uomini degli anziani di Israele conosciuti da te come anziani del popolo e come aventi autorità sovresso conducili alla tenda di convegno e si presentino con te io scenderò e parlerò qui viteco prenderò dello spirito che è su te e lo metterò su loro perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo e dirai al popolo santificatevi per domani e mangerete della carne poiché avete pianto agli orecchi dell'eterno dicendo chi ci farà mangiare della carne stavamo pur bene in Egitto ebbene l'eterno vi darà della carne e voi ne mangerete e ne mangerete non per un giorno né per due giorni non per cinque giorni né per dieci giorni non per venti giorni ma per un mese intero finché vi esca per le narici e vi faccia nausea poiché avete ricettato l'eterno che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a lui dicendo perché mai siamo usciti dall'Egitto e Mosè disse questo popolo in mezzo al quale mi trovo noverà seicentomila adulti e tu hai detto io darò loro della carne e ne mangeranno per un mese intero si scanneranno per loro i greggi di darmenti in modo che ne abbiano abbastanza o si radunerà per loro tutto il pesce nel mare in modo che ne abbiano abbastanza e l'eterno rispose a Mosè la mano dell'eterno è forse raccorciata ora vedrai se la parola che ti ho detto s'adempia o no Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole dell'eterno e radunò settanta uomini degli anziani del popolo e li posse intorno alla tenda e l'eterno scese nella nuvola e gli parlò prese dello spirito che era su lui e lo mise sui settanta anziani e avvenne che quando lo spirito si fu posato su loro quelli profetizzavano ma non continuarono intanto due uomini l'uno chiamato El Dad e l'altro Medad erano rimasti nel campo e lo spirito si posò su loro erano fra gli iscritti ma non erano usciti per andare alla tenda e profetizzavano nel campo un giovane corse a riferire la cosa a Mosè e disse El Dad e Medad profetizzano nel campo allora Giosuè figliolo di Nun servo di Mosè dalla sua giovinezza prese a dire Mosè signor mio non glielo permettere ma Mosè gli rispose sei tu geloso per me o fossero pur tutti i profeti nel popolo dell'eterno e volesse l'eterno metter su loro lo spirito suo e Mosè si ritirò nel campo e assieme con gli anziani di Israele e un vento si levò per ordine dell'eterno e portò delle quaglie dalla parte del mare e le fece cadere presso il campo sulla distesa di circa una giornata di cammino da un lato e una giornata di cammino dall'altro intorno al campo e un'altezza di circa due cubiti sulla superficie del suolo e il popolo si levò e tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno seguente raccolse le quaglie chi ne raccolse meno ne ebbe dieci ome e se le distessero tutto intorno al campo ne avevano ancora la carne fra i denti e non l'avevano per anco masticata quando l'ira dell'eterno si accese contro il popolo e l'eterno percorse il popolo con la gravissima piaga e quel luogo fu dato il nome di Kibroth a Tava perché vi si seppellì la gente che era stata presa dalla concupiscenza da Kibroth a Tava il popolo partì per Azzeroth e a Azzeroth si fermò numeri capitolo dodicesimo Maria ed Aronne parlarono contro Mosè a cagione della moglie cuscita che aveva preso poiché aveva preso una moglie cuscita e dissero l'eterno ha egli parlato solo per mezzo di Mosè non ha egli parlato anche per mezzo nostro e l'eterno lo dì or Mosè era un uomo molto mansueto più di ogni altro uomo sulla faccia della terra e l'eterno disse a un tratto a Mosè ad Aronne e a Maria uscite voi tre e andate alla tenda di convegno e uscirono tutti e tre e l'eterno scese in una colonna di nuvola e si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aronne e Maria ambedue si fecero avanti e l'eterno disse ascoltate ora le mie parole se v'è tra voi alcun profeta io l'eterno mi faccio conoscere a lui in visione parlo con lui in sogno non così col mio servitore Mosè che è fedele in tutta la mia casa con lui io parlo a tu per tu facendomi vedere e non per via di enimmi ed egli contempla la sembianza dell'eterno perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo contro Mosè e l'ira dell'eterno s'accesse contro di loro ed egli se ne andò e la nuvola si ritirò di sopra della tenda ed ecco che Maria era lebrosa bianca come neve Aronne guardò Maria ed ecco era lebrosa e Aronne disse a Mosè dè signor mio non ci far portare la pena di peccato che abbiamo stoltamente commesso e di cui siamo colpevoli dè che ella non sia come il bimbo nato morto la cui carne è già mezza consumata quando esce dal seno materno e Mosè gridò all'eterno dicendo guariscila o Dio te ne prego e l'eterno rispose a Mosè se suo padre le avesse sputato in viso non ne porterebbe ella vergogna per sette giorni stia dunque rinchiusa fuori del campo sette giorni poi vi sarà di nuovo ammessa Maria dunque fu rinchiusa fuori del campo sette giorni e il popolo non si mise in cammino perché Maria non fu riammessa al campo poi il popolo partì da Azzerot e si accampò nel deserto di Param numeri capitolo tredicesimo l'eterno parlò a Mosè dicendo manda degli uomini ad esplorare il paese di Canaan che io do ai figlioli di Israele mandate un uomo per ogni tribù dei loro padri siano tutti dei loro principi e Mosè mandò dal deserto di Paran secondo l'ordine dell'eterno quegli uomini erano tutti capi dei figlioli di Israele e questi erano i loro nomi per la tribù di Ruben Shumua figliolo di Zacur per la tribù di Simeone Shafat figliolo di Hori per la tribù di Giuda Caleb figliolo di Gefunne per la tribù di Issacar Igal figliolo di Giuseppe per la tribù di Ephraim Oscea figliolo di Num per la tribù di Beniamino Palti figliolo di Raffu per la tribù di Zabolon Gadiel figliolo di Sodi per la tribù di Giuseppe cioè per la tribù di Menasse Gad figliolo di Susi per la tribù di Dan Ammiel figliolo di Gemalli per la tribù di Asher Setur figliolo di Mikael per la tribù di Neftali Nabì figliolo di Vofsi per la tribù di Gad Gerual figliolo di Maki tali i nomi degli uomini che Mosè mandò a esplorare il paese e Mosè dette a Oscea figliolo di Nun il nome di Giosuè Mosè dunque li mandò ad esplorare il paese di Canam e disse loro andate su di qua per il mezzogiorno poi salirete sui monti e vedrete che paese sia che popolo l'abiti se è forte o debole se è poco o molto numeroso come sia il paese che abita se è buono o cattivo e come siano le città dove abita se siano degli accampamenti o dei luoghi fortificati e come sia il terreno se grasso o magro se vi siano alberi o no abbiate coraggio e portate dei frutti del paese ora è il tempo che cominciava a maturare l'uva quelli dunque salirono ed esplorarono il paese dal deserto di Zin fino a Rehob sulla via di Amat salirono per il mezzogiorno e andarono fino a Ebron dove erano i mam Shehai talmai figlioli di Anak or Ebron era stata edificata sette anni prima di Zoa in Egitto e giunsero fino alla valle d'Eskol dove tagliarono un traccio con un grappolo d'uva che portarono in due come una stanga e presero anche delle mille grane dei fichi quel luogo fu chiamato la valle d'Eskol a motivo del grappolo d'uva che i figlioli d'Israele vi tagliarono e alla fine di quaranta giorni tornarono dall'esplorazione del paese e andarono a trovare Mosè ed Aron e tutta la radunanza dei figlioli d'Israele nel deserto di Param a Cades riferirono ogni cosa e tutta la radunanza e mostrarono loro i frutti del paese e fecero il loro racconto dicendo Noi arrivammo nel paese dove tu ci mandasti ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele ed ecco dei suoi frutti soltanto il popolo che abita il paese è potente le città sono fortificate e grandissime e vi abbiamo anche veduto dei figlioli di Anak di Amalekiti abitano dalla parte meridionale del paese gli Ittei Ghebuse gli Amore e la regione montuosa i Cananei abitano presso il mare e lungo il Giordano e Cale calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse saliamo pure e conquistiamo il paese poiché possiamo benissimo soggiogarlo ma gli uomini che erano andati con lui dissero noi non siamo capaci di salire contro questo popolo perché è più forte di noi e screditarlo presso i figlioli di Israele il paese che avevano esplorato dicendo il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti e tutta la gente che vi abbiamo veduta è gente d'alta statura e vi abbiamo visto i giganti i figlioli di Anak della razza dei giganti aspetto del quale ci pareva ad essere locuste e tali parevamo a loro numeri capitolo quattordicesimo allora tutta la radunanza alzò la voce e dieti in alto e grida e il popolo pianse tutta quella notte e tutti i figlioli di Israele mormoravano contro Mosè e contro Aronne e tutta la radunanza e disse loro fossimo pur morti nel paese d'Egitto o fossimo pur morti in questo deserto e perché ci mena l'Eterno in questo paese dove cadremo per la spada le nostre mogli e i nostri piccini vi saranno preda del nemico non sarebbe egli meglio per noi tornare in Egitto e si dissero l'un l'altro nominiamoci un capo e torniamo in Egitto allora Mosè ed Aronne si prostrarono a terra dinanzi a tutta l'assemblea riunita dei figlioli di Israele e Giosuè figliolo di Nun e Kare figliolo di Jefun che erano di quelli che avevano esplorato il paese e si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la radunanza dei figlioli di Israele il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono buonissimo se l'Eterno ci è favorevole ci introdurrà in quel paese e ce lo darà è un paese dove scorre il latte e il miele soltanto non vi ribellate all'Eterno non abbiate paura del popolo di quel paese poiché ne faremo un nostro pascolo l'ombra che li copriva si è ritirata e l'Eterno è con noi non ne abbiate paura allora tutta la radunanza parlò di lapidarli ma la gloria dell'Eterno apparve sulla tenda di convegno e tutti i figlioli di Israele e l'Eterno disse a Mosè fino a quanto mi disprezzerà questo popolo e fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro io li colperò con la peste e lo distruggerò ma farò di te una nazione più grande e più potente di lui e Mosè disse all'Eterno ma ludranno gli egiziani di mezzo ai quali tu hai fatto salire questo popolo per la tua potenza e la cosa sarà risaputa dagli abitanti di questo paese essi hanno dito che tu o Eterno sei nel mezzo di questo popolo che apparisci loro faccia a faccia e che la tua nuvola si ferma sopra di loro e che cammini davanti a loro di giorno una colonna di nuvola e la notte in una colonna di fuoco ora se fai perire questo popolo come un sol uomo le nazioni che hanno dito la tua fama diranno siccome l'Eterno non è stato capace di far entrare questo popolo nel paese che aveva giurato di darli li ha scannati nel deserto ed ora si mostri ti prego la potenza del Signore nella sua grandezza come tu hai promesso dicendo l'Eterno 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 è lento all'ira e di gran benignità egli perdona l'iniquità e il peccato ma non lascia impunito il colpevole e punisce l'iniquità dei padri e i suoi figlioli fino alla terza e alla quarta generazione e perdona l'iniquità di questo popolo secondo la grandezza della tua benignità nel modo che hai perdonato questo popolo dall'Egitto fino a qui e l'Eterno disse io perdono come tu hai chiesto ma come è vero che io vivo tutta la terra sarà ripiena della gloria dell'Eterno e tutti quegli uomini che hanno veduto la mia gloria e miracoli che ho fatto in Egitto e nel deserto e nonostante m'hanno tentato già dieci volte e non hanno ubbidito alla mia voce certo non vedranno il paese che promisi con giuramento ai loro padri nessuno di quelli che m'hanno disprezzato lo vedrà ma il mio servo Caleb siccome è stato animato da un altro spirito e m'ha seguito appieno io lo introdurò nel paese nel quale è andato e la sua progenie lo possederà orli a malechiti e i cananei abitano nella valle domani tornate addietro incamminatevi verso il deserto in direzione del Mar Rosso l'Eterno parlò ancora a Mosè ed Arone dicendo fino a quando sopporterò io questa malvagia radunanza che mormora contro di me io ho udito e mormorì che i figlioli di Israele fanno contro di me di loro com'è vero che io vivo dice l'Eterno io vi farò quello che ho sentito dire da voi i vostri cadaveri cadranno in questo deserto e voi tutti quanti siete di cui si è fatto il censimento dall'età di venti anni in su e che avete mormorato contro di me non entrerete di certo nel paese del quale giurai di farvi abitare salvo Calè figliolo di Gefunne e Giosuè figliolo di Num i vostri piccini che avete detto sarebbero preda dei nemici quelli vi farò entrare ed essi conosceranno il paese che voi avete disdegnato ma quanto a voi i vostri cadaveri cadranno in questo deserto e i vostri figlioli andranno pascendo i gregi nel deserto per quarant'anni e porteranno la pena delle vostre infedeltà finché i vostri cadaveri non siano consumati nel deserto come avete messo quaranta giorni ad esplorare il paese porterete la pena delle vostre iniquità quarant'anni un anno per ogni giorno e saprete che cosa sia incorrere nella mia disgrazia io l'Eterno ho parlato certo così farò e tutta questa malvagia radunanza la quale si è messa assieme contro di me in questo deserto saranno consunti qui vi morranno e gli uomini che Mosè aveva mandato ad esplorare il paese e che tornati avevano fatto mormorare tutta la radunanza contro di lui screditando il paese quegli uomini dico che aveano screditato il paese morirono colpiti da una piaga dinanzi all'Eterno ma Giosuè figliuolo di Nun e Calè figliuolo di Gefunne rimasero vivi fra quelli che erano andati ad esplorare il paese or Mosè riferì quelle parole a tutti i figliuoli di Israele e il popolo ne fece gran cordoglio e la mattina si levarono di buon'ora e salirono sulla cima del monte dicendo eccoci qua noi saliremo al luogo di cui ha parlato l'Eterno poiché abbiamo peccato ma Mosè disse perché trasgredite l'ordine dell'Eterno la cosa non vandrà bene non salite perché l'Eterno non è in mezzo a voi che non abbiate ad essere sconfitti dai vostri nemici poiché là di fronte a voi stanno gli Amalekiti e i Cananei e voi cadrete per la spada giacché vi siete sviati dall'Eterno l'Eterno non sarà con voi non di meno sostinarono a salire sulla cima del monte ma l'arca del patto dell'Eterno e Mosè non si mossero di mezzo al campo allora gli Amalekiti e i Cananei che abitavano su quel monte scesero giù li batterono e li fecero a pezzi fino a Ormà numeri capitolo quindicesimo poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo parla ai figliori di Israele di loro quando sarete entrati nel paese che dovrete abitare e che io vi do e offrirete all'Eterno un sacrificio fatto mediante il fuoco locausto o sacrificio per addempimento d'un voto o come offerta volontaria o nelle vostre feste solenni per fare un profumo suave all'Eterno col vostro grosso minuto bestiame colui che presenterà la sua offerta all'Eterno offrirà come oblazione un decimo d'un efa di fior di farina stemperata con un quarto di un gin d'olio e farai una libazione d'un quarto di gin di vino con l'olocausto o il sacrificio per ogni agnello se è per un montone offrirai come oblazione due decimi d'efa di fior di farina stemperata col terzo di un gin d'olio e farai una ribazione d'un terzo di gin di vino come offerta di odore soave all'Eterno e se offri un giovenco come olocausto o come sacrificio per addempimento di un voto o come sacrificio di azioni di grazia all'Eterno si offrirà col giovenco come oblazione tre decimi d'efa di fior di farina stemperata con la metà di un indolio e farai una libazione di un mezzo indivino è un sacrificio fatto mediante il fuoco di soave odore all'Eterno così si farà per ogni bue per ogni montone per ogni agnello capretto qualunque qualunque sia il numero degli animali che immolerete farete così per la ciascuna vittima tutti quelli che sono nativi del paese saranno obbedienti a questo e offriranno un sacrificio fatto mediante il fuoco di soave odore all'Eterno e se uno straniero che soggiorna da voi o chiunque dimori fra voi nel futuro offre un sacrificio fatto mediante il fuoco di soave odore all'Eterno farà come fate voi vi sarà una sola legge per tutta l'assemblea per voi e per lo straniero che soggiorna tra voi sarà una legge perpetua di generazione in generazione come siete voi così sarà lo straniero davanti all'Eterno ci sarà una stessa legge e uno stesso diritto per voi e per lo straniero che soggiorna da voi l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo parla ai figlioli di Israele di loro quando sarete arrivati nel paese dove io vi conduco e mangerete del pane di quel paese ne preleverete un'offerta da presentare all'Eterno dalle primizie della vostra pasta metterete da parte una focaccia come un'offerta la metterete da parte come si mette da parte l'offerta dell'aia delle primizie della vostra pasta darete all'Eterno una parte come offerta di generazione in generazione quando quando avrete errato e non avrete osservato tutti questi comandamenti che l'Eterno ha dati a Mosè tutto quello che l'Eterno vi ha comandato per mezzo di Mosè dal giorno che l'Eterno vi ha dato dei comandamenti e in appresso nelle vostre successive generazioni se il peccato è stato commesso per errore senza che la radunanza se ne sia accorta tutta la radunanza offrirà un giovenco come olocausto di suo avodore all'Eterno con la sua oblazione e la sua libazione secondo le norme stabilite e un capro come sacrificio per il peccato e il sacerdote farà l'espiazione per tutta la radunanza dei figlioli di Israele e sarà loro perdonato perché è stato un peccato commesso per errore ed essi hanno portato la loro offerta un sacrificio fatto all'Eterno mediante il fuoco e il loro sacrificio per il peccato dinanzi all'Eterno a causa del loro orrore sarà perdonato e tutta la radunanza dei figlioli di Israele e allo straniero che soggiorna in mezzo a loro perché tutto il popolo ha peccato per errore se è una persona sola che pecca per errore offrirà una capra di un anno come un sacrificio per il peccato e il sacerdote farà l'espiazione dinanzi all'Eterno per la persona che avrà mancato commettendo un peccato per errore e quando avrà fatta l'espiazione per essa le sarà perdonato sia che si tratti di un nativo del paese tra i figlioli di Israele o di uno straniero che soggiornà fra voi avrete un'unica legge per colui che pecca per l'errore ma la persona che agisce con proposito deliberato sia nativo del paese o straniero oltraggia l'Eterno quella persona sarà sterminata di fra il suo popolo siccome ha sprezzato la parola dell'Eterno e ha violato il suo comandamento e quella persona dovrà essere sterminata e porterà il peso della sua iniquità or mentre i figlioli di Israele erano nel deserto trovarono un uomo che raccoglieva delle legna in giorno di sabato e quelli che l'avevano trovato a raccogliere le legna lo menarono da Mosè ad Arone e tutta la radunanza e lo misero in prigione perché non era ancora stato stabilito cosa gli si dovesse fare e l'Eterno disse a Mosè quell'uomo deve essere messo a morte tutta la radunanza lo lapiderà fuori del campo tutta la radunanza lo menò fuori del campo e lo lapidò e quello morì secondo l'ordine che l'Eterno aveva dato a Mosè l'Eterno parlo ancora a Mosè dicendo parla ai figlioli di Israele e di loro che si facciano di generazione in generazione delle nappe agli angoli delle loro vesti e che mettino alla nappa ogni angolo un cordone violetto sarà questa una nappa d'ornamento e quando la guarderete vi ricorderete di tutti i comandamenti dell'Eterno per metterli in pratica e non andrete vagando dietro ai desideri del vostro cuore e dei vostri occhi che vi trascinano all'infedeltà così vi ricorderete di tutti i miei comandamenti li metterete in pratica e sarete santi al vostro Dio io sono l'Eterno il vostro Dio che vi ho tratti dal paese d'Egitto per essere vostro Dio io sono l'Eterno l'Idio vostro numeri capitolo sedicesimo Orcore Mosè figliuolo di Kehat figliuolo di Levi insieme con Datan Abiram figliuolo di Eliab e On figliuolo di Pelet tutti e tre figliuoli di Ruben presero altra gente e si levarono su in presenza di Mosè con duecentocinquanta uomini dei figliuoli di Israele principi della radunanza membri del consiglio uomini di grido e radunatisi contro Mosè e contro Aronne dissero loro basta tutta la radunanza tutti fino ad uno sono santi e l'Eterno è in mezzo a loro perché dunque vi innalzate voi sopra la radunanza dell'Eterno quando Mosè ebbe udito questo si prostrò con la faccia a terra poi parlò a Core e a tutta la gente che era con lui dicendo domattino l'Eterno farà conoscere chi è suo e chi è santo e se lo farà avvicinare farà avvicinare a sé colui che gli avrà scelto fate questo prendete dei tu riboli tu Core e tutta la gente che è con te e domani mettetevi del fuoco e ponetevi su del profumo dinanzi all'Eterno e colui che l'Eterno avrà scelto sarà santo basta figliuoli di Levi Mosè disse inoltre a Core ora ascoltate o figliuoli di Levi egli è poco per voi che l'Iddio di Israele vabbia partati dalla radunanza di Israele e vabbia fatto accostare a sé per fare il servizio del tabernacolo dell'Eterno e per tenervi davanti alla radunanza al fin di esercitare a pros suo il vostro ministero egli vi fa accostare a sé te e tutti i tuoi fratelli figliuoli di Levi con te e cercate anche il sacerdozio e per questo tu e tutta la gente che te con vi siete radunati contro l'Eterno poiché chi è Aronne che vi metteate a mormorare contro di lui e Mosè mandò a chiamare Datan e Abiram figliuoli di Eliab ma essi gli dissero noi non saliremo egli è poco per te l'averci tratti fuori da un paese dove scorre il latte e il miele per farsi morire nel deserto che tu voglia anche farla da principe sì da principe su noi e poi non ci hai davvero condotti in un paese dove scorre il latte e il miele e non ci hai dato possessi di campi e di vigne credi tu di poter render cieca questa gente noi non saliremo allora Mosè si adirò forte e disse all'Eterno non gradire la loro oblazione io non ho preso da costoro neppure un asino e non ho fatto torto ad alcuno di loro poi Mosè disse a core tu e tutta la tua gente trovatevi innanzi domani all'Eterno tu e loro con Aronne e ciascun di voi prende il suo turribolo vi metta del profumo e porti ciascuno il suo turribolo davanti all'Eterno saranno duecentocinquanta turriboli anche tu ed Aronne prenderete ciascuno il vostro turribolo essi dunque presero ciascuno il suo turribolo vi misero del fuoco e vi posero su del profumo e si fermarono all'ingresso della tenda di convegno lo stesso fecero Mosè ed Aronne e core convocò tutta la radunanza contro Mosè ed Aronne all'ingresso della tenda di convegno e la gloria dell'Eterno apparve a tutta la radunanza e l'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne dicendo separatevi da questa radunanza e io li consumerò in un attimo ma essi prostratisi con la faccia a terra dissero oh Dio Dio degli spiriti di ogni carne un uomo solo ha peccato e ti adireresti tu contro tutta la radunanza e l'Eterno parlò a Mosè dicendo parla la radunanza e dirle ritiratevi intorno alla dimora di Core di Datan e di Abiram e Mosè si levò e andò da Ditam e da Abiram e gli anziani di Israele lo seguirono ed egli parlò alla radunanza dicendo allontanatevi dalle tende di questi uomini malvagi e non toccate nulla di ciò che è loro affinché non abbiate a perire a cagione di tutti i loro peccati così quelli si ritirarono dintorno dalla dimora di Core di Datan e di Abiram Datan ed Abiram uscirono e si fermarono all'ingresso delle loro tende con le loro mogli i loro figlioli e i loro piccini e Mosè disse da questo conoscerete che l'Eterno mi ha mandato per fare tutte queste cose e che io non le ho fatte di mia testa se questa gente muore come muoiono tutti gli uomini se la loro sorte è la sorte comune a tutti gli uomini l'Eterno non mi ha mandato ma se l'Eterno fa una cosa nuova se la terra apre la sua bocca e l'ingoia con tutto quello che appartiene a loro e se si scendono vivi nel soggiorno dei morti allora riconoscerete che questi uomini hanno disprezzato l'Eterno e avvenne come egli ebbe finito di proferire tutte queste parole che il suolo si spaccò sotto i piedi di coloro la terra spalancò la sua bocca e l'ingoiò essi e le loro famiglie con tutta la gente che apparteneva a Core e tutta la loro roba escessero vivi nel soggiorno dei morti e la terra si richiusse su loro ed essi scomparvero di mezzo all'assemblea tutto Israele che era attorno ad essi fuggì alle loro grida perché dicevano che la terra non inghiottiscano eppure e un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e diverò i duecentocinquanta uomini che offrivano il profumo poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo di a Eleazar figliolo del sacerdote Aronne di trarre i turriboli di mezzo dall'incendio e di disperdere qua e là il fuoco perché quelli sono sacri ed i turriboli di quegli uomini che hanno peccato al prezzo della loro vita si facciano tante lamine battute per rivestire l'altare poiché sono stati preservati davanti all'Eterno e quindi sono sacri e serviranno di segno ai figlioli di Israele e il sacerdote Eleazar presse i turriboli di rame presentati davanti agli uomini che erano stati arsi e furono tirati in lamine per rivestire l'altare affinché servissero di ricordanza ai figlioli di Israele e nion estraneo che non sia della progeni di Aronne si accosti a darle il profumo davanti all'Eterno e abbia la sorte di cuore di quelli che erano con lui Eleazar fece come l'Eterno gli aveva detto per mezzo di Mosè il giorno seguente tutta la radunanza dei figlioli di Israele mormorò contro Mosè e Aronne dicendo voi avete fatto morire il popolo dell'Eterno e avvenne che come la radunanza si faceva numerosa contro Mosè e contro Aronne i figlioli di Israele si volsero verso la tenda di convegno ed ecco che la nuvola la ricoprì ed apparve la gloria dell'Eterno Mosè ed Aronne vennero davanti alla tenda di convegno e l'Eterno parlò a Mosè dicendo toglietevi di mezzo a questa radunanza e io li consumerò in un attimo ed essi si prostrarono con la faccia a terra e Mosè disse ad Aronne prendi il turibolo mettiti dentro del fuoco sull'altare ponvi su del profumo e portalo presto in mezzo alla radunanza e fa l'espiazione per essi poiché l'ira dell'Eterno è scoppiata la piaga è già cominciata e Aronne prese il turibolo come Mosè aveva detto corse in mezzo all'assemblea ed ecco che la piaga era già cominciata fra il popolo mise il profumo nel turibolo e fece l'espiazione per il popolo e si fermò fra i morti e i vivi e la piaga fu arrestata or quelli che mormoravano di questa piaga furono quattro tordici mila settecento oltre a quelli che morirono per il fatto di core Aronne tornò a Mosè all'ingresso della tenda di convegno e la piaga fu arrestata numeri capitolo dicesettesimo poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo parla ai figlioli di Israele e fatti dare da loro delle verghe una per ogni casa dei loro padri cioè dodici verghe da parte di tutti i loro principi secondo le casse dei loro padri scriverai il nome d'ognuno sulla sua verga e scriverai il nome d'Aronne sulla verga di Levi poiché ci sarà una verga per ogni capo delle casse dei loro padri e riporai quelle verghe nella tenda del convegno davanti alla testimonianza dove io mi ritrovo con voi e avverrà che l'uomo che io avrò scelto sarà quello la cui verga fiorirà e farò cessare davanti a me i mormori che i figlioli di Israele fanno contro di voi e Mosè parlò ai figlioli di Israele e tutti i loro principi gli dettero una verga per uno secondo le casse dei loro padri cioè dodici verghe e la verga d'Aronne era in mezzo alle verghe loro e Mosè ripose quelle verghe davanti all'Eterno nella tenda della testimonianza e avvenne l'indomani della testimonianza ed ecco che la verga d'Aronne per la casa di Levi aveva fiorito gettando dei bottoni sbocciato dei fiori e maturando delle mandorle allora Mosè tolse tutte le verghe di davanti all'Eterno e le portò a tutti i figlioli di Israele ed essi le videro e presero ciascuno la sua verga e l'Eterno disse a Mosè riporta la verga d'Aronne davanti alla testimonianza perché sia conservata come un segno ai ribelli onde si è messo fin ai loro mormori contro di me ed essi non muoiano Mosè fece così fece come l'Eterno gli aveva comandato i figlioli di Israele dissero a Mosè ecco periamo siamo perduti siamo tutti perduti chiunque si accosta chiunque si accosta al tabernacolo dell'Eterno muore dovremo perire tutti quanti numeri capitolo diciottesimo e l'Eterno disse ad Aronne tu i tuoi figlioli e la casa di tuo padre con te porterete il peso delle iniquità commesse nel santuario e tu e i tuoi figlioli porterete il peso delle iniquità commesse nell'esercizio del vostro sacerdozio e anche i tuoi fratelli la tribù di Levi la tribù di tuo padre farai accostare a te affinché ti siano aggiunti e ti servano quando tu e i tuoi figlioli con te sarete davanti alla tenda della testimonianza essi faranno il servizio sotto i tuoi ordini in tutto quel che concerne la tenda soltanto non si accosteranno agli utensili del santuario né all'altare affinché non moriate e gli uni e gli altri essi ti saranno dunque aggiunti e faranno il servizio della tenda di convegno in tutto ciò che le concerne e nessun estraneo si accosterà a voi e voi farete il servizio del santuario e dell'altare affinché non vi sia più ira contro i figlioli di Israele quanto a me ecco io ho preso i vostri figlioli le viti di mezzo ai figlioli di Israele dati all'eterno essi sono rimessi in dono e voi per fare il servizio della tenda di convegno e tu e i tuoi figlioli con te eserciterete il vostro sacerdozio in tutto ciò che concerne l'altare e ciò che di là dal velo e farete il vostro servizio io vi do l'esercizio del sacerdozio come un dono l'estraneo che si accosterà sarà messo a morte l'eterno disse ancora ad Aronne ecco di tutte le cose consacrate dai figlioli di Israele io ti do quelle che mi sono offerte per l'elevazione io te le do e tu ai tuoi figlioli come diritto d'unzione per legge perpetua questo ti apparterà tra le cose santissime non consumate dal fuoco tutte le loro offerte vale a dire ogni oblazione ogni sacrificio per il peccato ed ogni sacrificio di riparazione che mi presenteranno sono tutte cose santissime che apparteranno a te e ai tuoi figlioli le mangerai in luogo santissimo ne mangerai ogni maschio ti saranno come cose sante questo ancora ti appartiene i doni che i figlioli di Israele presenteranno per elevazione e tutte le loro offerte agitate io le do a te ai tuoi figlioli e alle tue figliole con te per legge perpetua chiunque sarà puro in casa tua ne potrà mangiare ti do pure tutte le primizie che si offriranno all'eterno il meglio dell'olio il meglio del mostro del grano e le primizie del tuo ciò che produrrà la loro terra e che essi presenteranno all'eterno saranno tue chiunque sarà puro in casa tua ne potrà mangiare tutto ciò che sarà consacrato per voi l'interdetto in Israele sarà tuo ogni primogenito ed ogni carne che si offriranno all'eterno così degli uomini come degli animali sarà tuo però farai riscattare il primogenito dell'uomo e farai parimente riscattare il primogenito di un animale impuro e quanto al riscatto li farai riscattare dall'età di un mese secondo la tua stima per cinque cicli d'argento e un ciclo di santuario che è di venti ghere ma non farai riscattare il primogenito della vacca nel primogenito della pecora nel primogenito della capra sono cosa sacra spanderai il loro sangue sull'altare e farai fumare il loro grasso come sacrificio fatto mediante il fuoco di soave odore all'eterno la loro carne sarà tua sarà tua come il petto dell'offerta citata e come la coscia destra io ti do a te e ai figlioli e alle tue figliole con te per leggi perpetua tutte le offerte di cosse sante che i figlioli di Israele presenteranno all'eterno per elevazione è un patto inalterabile perpetuo dinanzi all'eterno per te e per la tua progenita con te l'eterno disse ancora ad Aronne tu non avrai alcun possesso nel paese e non ci sarà parte per te in mezzo a loro io sono la tua parte e il tuo possesso in mezzo ai figlioli di Israele e ai figlioli di Levi io do come possesso tutte le decime in Israele in contraccambio del servizio che fanno il servizio della tenda di convegno e i figlioli di Israele non si accosteranno più alla tenda di convegno per non caricarsi di un peccato che li trarrebbe a morte ma il servizio della tenda di convegno lo faranno soltanto i leviti ed essi porteranno il peso delle proprie iniquità sarà una legge perpetua di generazione in generazione e non possederanno nulla tra i figlioli di Israele poiché io do come possesso ai leviti le decime dei figlioli di Israele presenteranno all'Eterno come offerta elevata per questo ti dico di loro non possederanno nulla tra i figlioli di Israele e l'Eterno parlò a Mosè dicendo parlerai inoltre ai leviti e dirai loro quando riceverete dai figlioli di Israele le decime che io vi do per conto loro come vostro possesso ne metterete la parte un'offerta da fare all'Eterno una decima della decima e l'offerta che avrete prelevata vi sarà contata come il grano che viene dall'aria come il mostro che esce dallo strettoio così anche voi metterete da parte un'offerta per l'Eterno da tutte le decime che riceverete dai figlioli di Israele e darete al sacerdote Aronne l'offerta che avete messa da parte per l'Eterno da tutte queste cose che vi saranno donate metterete da parte tutte le offerte per l'Eterno di tutto ciò che vi sarà di meglio metterete da parte quel tanto che è da consacrare e dirai loro quando ne avrete messo da parte il meglio quel che rimane sarà contato ai leviti come il provento dell'aria e come il provento dello strettoio e lo potrete mangiare in qualunque luogo voi e le vostre famiglie perché è vostra mercede in contraccambio del vostro servizio nella tenda di convegno e così non vi caricherete da alcun peccato e giacché ne avrete messo da parte il meglio e non profanerete le cose sante dei figlioli di Israele e non morrete numeri capitolo diciannovesimo l'Eterno parlò ancora a Mosè ad Arone dicendo questo è l'ordine della legge che l'Eterno ha prescritta dicendo di ai figlioli di Israele che ti menino una giovenca rossa senza macchia senza difetti e che non abbia mai portato il gioco e la darete al sacerdote Eleazar che la condurrà fuori del campo e la farà scannare in sua presenza il sacerdote Eleazar prenderà col dito del sangue della giovenca e ne farà sette volte la spersione dal lato dell'ingresso della tenda di convegno poi si brucerà la giovenca sotto gli occhi di lui se ne brucerà la pelle la carne il sangue con i suoi escrementi il sacerdote prenderà quindi del legno di cedro del lissopo della stoffa scarlata e getterà tutto in mezzo al fuoco che consuma la giovenca poi il sacerdote si laverà le vesti e il corpo nell'acqua dopo di che rientrerà nel campo e il sacerdote sarà impuro fino alla sera e colui che avrà bruciato la giovenca si laverà le vesti nell'acqua farà un'abluzione nel corpo nell'acqua e sarà impuro fino alla sera un uomo puro raccoglierà le ceneri della giovenca e le depositerà fuori del campo in un luogo puro dove saranno conservate per la radunanza dei figlioli di Israele con acqua di purificazione e un sacrificio per il peccato e colui che vi avrà raccolto le ceneri della giovenca si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera e questa sarà una legge perpetua per i figlioli di Israele e per lo straniero che soggiornerà da voi chi avrà toccato il cadavere di una persona umana sarà impuro sette giorni quando un uomo si sarà purificato con quell'acqua il terzo e il settimo giorno sarà puro ma se non si purifica il terzo e il settimo giorno non sarà puro chiunque avrà toccato un morto il corpo di una persona umana che sia morta e non si sarà purificato avrà contaminato la dimora dell'eterno e quel tale sarà sterminato di mezzo a Israele siccome l'acqua di purificazione non è stata spruzzata su lui egli è impuro ha ancora addosso la sua impurità questa è la legge quando un uomo sarà morto in una tenda chiunque entrerà nella tenda e chiunque sarà nella tenda sarà impuro sette giorni e ogni vaso scoperto sul quale non sta coperchio attaccato sarà impuro e chiunque per i campi avrà toccato un uomo ucciso per la spada o morto da sé o un osso di un uomo o un sepolcro sarà impuro sette giorni e per colui che sarà divenuto impuro si prenderà della cenere della vittima alza per il peccato e vi si verserà su dell'acqua viva in un vaso poi un uomo puro prenderà dell'issopo lo intingerà nell'acqua ne spruzzerà la tenda tutti gli utensili e tutte le persone che vi sono quivi e con lui anche colui che ha toccato l'osso o l'ucciso o il morto da sé o il sepolcro l'uomo puro spruzzerà l'impuro il terzo giorno e il settimo giorno e lo purificherà il settimo giorno poi colui che è stato immondo si laverà le vesti laverà se stesso nell'acqua e sarà puro la sera ma colui che divenuto impuro non si purificherà sarà sterminato di mezzo alla radunanza perché ha contaminato il sangue del sacrificio dell'eterno l'acqua della purificazione non è stata spruzzata su di lui ed è impuro sarà per loro una legge perpetua colui che avrà spruzzato l'acqua di purificazione si laverà le vesti e chi avrà toccato l'acqua di purificazione sarà impuro fino alla sera e tutto quello che è impuro avrà toccato sarà impuro e una persona che avrà toccato lui sarà impuro fino alla sera numeri capitolo ventesimo or tutta la radunanza dei figlioli di Israele arrivò al deserto di Zin il primo mese e il popolo si fermò a Cades qui vi morì e fu sepolta Maria e mancava l'acqua per la radunanza onde ci fu assembramento contro Mosè e contro Aronne e il popolo contese con Mosè dicendo fossimo pur morti quando morirono i nostri fratelli davanti all'Eterno e perché avete menato la radunanza dell'Eterno in questo deserto per morirvi noi e il nostro bestiame e perché ci avete fatti salire dall'Egitto per menarci in questo triste luogo non è luogo dove si possa seminare non ci sono fichi non vigne non malagrane e non c'è acqua da bere allora Mosè e Aronne si allontanarono dalla radunanza per recarsi all'ingresso della tenda di convegno e si prostrarono con la faccia a terra e la gloria dell'Eterno apparve loro e l'Eterno parlò a Mosè dicendo prendi il bastone e tu e tuo fratello Aronne e convocate la radunanza e parlate a quel sasso in loro presenza ed esso darà la sua acqua e tu farai sgorgare per loro dell'acqua dal sasso e darei da bere la radunanza e il suo bestiame e il suo bestiame Mosè dunque prese il bastone che era davanti all'Eterno come l'Eterno li aveva ordinato e Mosè ed Aronne convocarono la radunanza di rimpetto al sasso e Mosè disse loro ora ascoltate o ribelli vi farei noi uscire dell'acqua da questo sasso e Mosè alzò la mano e percorse il sasso col suo bastone due volte e ne uscì dell'acqua in abbondanza e la radunanza e il suo bestiame bevero poi l'Eterno disse a Mosè e ad Aronne siccome non avete avuto fiducia in me per dar gloria al mio santo nome e agli occhi dei figlioli di Israele voi non introdurrete questa radunanza nel paese che le do queste sono le acque di Meriba dove i figlioli di Israele contessero con l'Eterno che si fece riconoscere come il santo in mezzo a loro poi Mosè mandò da Cades degli ambasciatori al re Edom per dirgli così dice Israele tuo fratello tu sai tutte le tribolazioni che ci sono avvenute come i nostri padri scesero in Egitto e noi in Egitto dimoramo per lungo tempo e gli egiziani maltratarono noi i nostri padri e noi gridammo all'Eterno ed egli udì la nostra voce e mandò un angelo e ci fece uscire dall'Egitto ed eccoci ora in Cades che è città agli estremi dei tuoi confini dè lasciaci passare per il tuo paese noi non passeremo né per i campi né per vigne e non berremo l'acqua dei pozzi seguiremo la strada pubblica senza deviare né a destra né a sinistra finché abbiamo oltrepassato i tuoi confini ma Edom gli rispose tu non passerai sul mio territorio altrimenti ti verrò contro con la spada e i figlioli di Israele gli dissero noi saliremo per la strada maestra e se noi e il nostro bestiame berremo dell'acqua tua te la pagheremo lasciaci semplicemente transitare a piedi ma quello rispose non passerai Edom mosse contro Israele con molta gente e con potente mano così Edom ricusò a Israele il transito per i suoi confini onde Israele s'allontanò da lui tutta la radunanza dei figlioli di Israele si partì da Cades e arrivò al monte Or e l'Eterno parlò a Mosè e ad Aronne dal monte Or sui confini del paese di Edom dicendo Aronne sta per essere raccolto presso il suo popolo e non entrerà nel paese che ho dato ai figlioli di Israele perché siese stati ribelli al mio comando alle acque di Meriva prendi Aronne ed Eleazar suo figliolo e falli salire sul monte Or spogli Aronne dei suoi parimenti e rivestine Eleazar suo figliolo qui Aronne sarà raccolto presso il suo popolo e morrà e Mosè fece come l'Eterno aveva ordinato ed essi salirono sul monte Or a vista di tutta la radunanza Mosè spogliò Aronne dei suoi paramenti e ne rivestì Eleazar figliolo di lui e Aronne morì qui sulla cima del monte poi poi Mosè ed Eleazar scesero dal monte e quando tutta la radunanza vide che Aronne era morto tutta la casa di Israele lo pianse per trenta giorni numeri capitolo ventunesimo ora il re Cananeo di Arad che abitava il mezzogiorno avendo dito che Israele veniva per la via di Atarin combatté contro Israele e fece alcuni prigionieri allora Israele fece un voto all'Eterno e disse se tu dai nelle mie mani questo popolo le loro città saranno da me votate allo sterminio e l'Eterno porse ascolto alla voce di Israele e gli diede nelle mani i Cananei e Israele votò allo sterminio i Cananei e le loro città e a quel luogo fu posto nome Horma poi gli israeliti si partirono dal monte Hormo vendo verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom e il popolo si fe' impaziente nel viaggio e il popolo parlò contro Dio e contro Mosè dicendo perché ci avete fatti salire fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto perché qui non c'è né pane né acqua né l'anima nostra è nauseata da questo cibo tanto leggero allora l'Eterno mandò fra il popolo dei serpenti ardenti i quali mordevano la gente e il gran numero di israeliti morirono allora il popolo venne a Mosè e disse abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro te prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti e Mosè pregò per il popolo e l'Eterno disse a Mosè fatti un serpente ardente e mettilo sopra un'antenna e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà scamperà Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un'antenna e avvenne che quando un serpente aveva morso qualcuno se questi guardava il serpente di rame scampava poi i figlioli di Israele partirono e si accamparono a Oboth e partitisi da Oboth si accamparono a Ije Abarin nel deserto che è di rimpetto a Moab dal lato dove sorge il sole di là si partirono e si accamparono nella valle di Zered poi si partirono di là e si accamparono dall'altro lato dell'Arnon che scorre nel deserto e nasce sui confini degli Amorei poiché l'Arnon è confine di Moab fra Moab e gli Amorei per questo è detto nel libro delle guerre dell'Eterno Vaheb in Sufa e le valli dell'Arnon e i declivi delle valli che si estendono verso le dimore di Ar e si appoggiano alla frontiera di Moab e di là andarono a Ber che è il pozzo a proposito del quale l'Eterno disse a Mosè raduna il popolo e io gli darò dell'acqua e fu in quell'occasione che Israele cantò questo cantico scaturisci o pozzo salutatelo con canti pozzo che i principi hanno scavato che i nobili del popolo hanno aperto con lo scettro con i loro bastoni poi dal deserto andarono a Matana e da Matana a Nataliel e Nahaliel a Bomot e da Bomot nella valle che è nella campagna di Moab verso l'altura del Pisgah che domina il deserto ora Israele mandò ambasciatori a Sihol re degli amorei per dirgli lasciami passare per il tuo paese noi non ci svieremo per i campi ne per le vigne e non berremo l'acqua dei pozzi seguiremo la strada pubblica finché abbiamo oltrepassato i tuoi confini ma Sihon non permise a Israele di passare per i suoi confini anzi radunò tutta la sua gente e uscì fuori contro Israele nel deserto giunse a Yathas e dia battaglia a Israele Israele lo sconfisse passando a fil di spada e conquistò il suo paese dall'Ardon fino a Yabok sino ai confini dei figlioli di Amon poiché la frontiera dei figlioli di Amon era forte e Israele prese tutte quelle città e abitò in tutte le città degli amorei in Eshbon e in tutte le città del suo territorio poiché Eshbon era la città di Sihon re degli amorei il quale aveva mostro guerra al precedente re di Moab e gli aveva tolto tutto il suo paese fino all'Arnon per questo dicono i poeti venite a Eshbon la città di Sihon già ricostruita e fortificata poiché un fuoco è uscito da Eshbon una fiamma dalla città di Sihon e sta divorato Ar di Moab i padroni delle alture dell'Arnon guai a te o Moab sei perduto o popolo di Chemosh Chemosh ha fatto dei suoi figlioli tanti fuggiaschi e ha dato le sue figliole come schiave a Sihon re degli amorei noi abbiamo scagliato su loro le nostre frecce Eshbon è distrutta fino a Dibon abbiamo tutto devastato fino a Nofat il fuoco è giunto fino a Maleba così Israele si stabilì nel paese degli amorei poi Mosè mandò ad esplorare gli asreo e gli israeliti presero le città del suo territorio e ne cacciarono gli amorei che vi si trovavano e mutata direzione risalirono il paese in direzione di Bashan e Og re di Bashan uscì contro loro con tutta la sua gente per dar loro battaglia a Edrei ma l'Eterno disse a Mosè non lo temere poiché io lo do nelle tue mani lui tutta la sua gente e il suo paese trattalo come hai trattato Sion il re degli amorei che abitava a Eshbon e gli israeli batterono lui con i suoi figlioli con tutto il suo popolo in guisa che non gli rimase più anima viva e si impadronirono del suo paese numeri capitolo ventiduesimo poi i figlioli di Israele partirono e si accamparono nelle pianure di Moab oltre il Giordano di Gerico or Balak figliolo di Zippor vide tutto quello che Israele aveva fatto agli amorei e Moab ebbe grande paura di questo popolo che era così numeroso Moab fu preso d'angoscia a cagione dei figlioli di Israele onde Moab disse agli anziani di Madiam or questa moltitudine divorerà tutto ciò che è intorno a noi come il bue divorerà l'erba dei campi or Balak figliolo di Zippor era in quel tempo re di Moab e gli mandò ambasciatori a Balam figliolo di Beor e a Peor che sta sul fiume nel paese dei figlioli del suo popolo per chiamarle e dirgli ecco un popolo è uscito da Egitto esso ricopre la faccia della terra e si è stabilito di rimpetto a me or dunque vieni te ne prego e malediscimi questo popolo poiché è troppo potente per me forse così riusciremo a sconfiggerlo e potrò cacciarlo dal paese poiché so che chi tu benedici è benedetto e chi tu maledici è maledetto gli anziani di Moab e gli anziani di Madia partirono portando in mano la mercede dell'indovino e arrivati da Balam li riferirono le parole di Balak Balam disse loro alloggiate qui stanotte e vi darò la risposta secondo che mi dirà l'Eterno e i principi di Moab stettero da Balaam ora Dio venne a Balaam e disse chi sono questi uomini che stanno da te e Balaam rispose a Dio Balak figliolo di Tzipor re di Moab mi ha mandato a dire ecco il popolo che è uscito dell'Egitto ricopre la faccia della terra or vieni a maledirmelo forse riuscirò così a batterlo e potrò cacciarlo e Dio disse a Balaam tu non andrai con loro non maledirai quel popolo perché gli è benedetto Balaam si levò la mattina e disse ai principi di Balak andatevene al vostro paese perché l'Eterno mi ha rifiutato il permesso di andare con voi e i principi di Moab si levarono e tornarono da Balaam e dissero Balaam ha rifiutato di venire con noi allora Balaam mandò di nuovo dei principi maggior numero e più riguardevoli che quei di prima i quali vennero da Balaam e gli dissero così dice Balak figliolo di Tzipor de nulla ti trattenga dal venire da me poiché io ti ricolmerò di onori e farò tutto ciò che mi dirai vieni dunque te ne prego e maledicimi questo popolo ma Balaam rispose e disse ai servi di Balak quando anche Balak mi desse la sua casa piena d'argento e d'oro non potrei trasgredire l'ordine dell'Eterno del mio Dio per far cosa piccolo o grande che fosse non di meno trattenetevi qui anche voi stanotte un Dio sappia ciò che l'Eterno mi dirà ancora e Dio venne la notte a Balaam e gli disse se quegli uomini sono venuti a chiamarti levati e va con loro soltanto farai ciò che io ti dirò Balaam quindi si levò la mattina sellò la sua asina e se ne andò con i principi di Moab ma l'ira di Dio s'accesse perché se ne era andato e l'angelo dell'Eterno si fosse sulla strada per fargli ostacolo or egli cavalcava la sua asina e aveva seco due servitori l'asina vedendo l'angelo dell'Eterno che stava sulla strada con la spada sguainata in mano uscì di via e cominciava ad andare per i campi Balaam percosse l'asina per rimetterla sulla strada allora l'angelo dell'Eterno si fermò in un sentiero incavato che passava tra le vigne e aveva in mano un muro di qua e un muro di là e l'asina vide l'angelo dell'Eterno e si serrò al muro e strinse il piede di Balaam al muro e Balaam la percosse di nuovo e l'angelo dell'Eterno passò di nuovo oltre e si fermò in un luogo stretto dove non c'era modo di volgersi né a destra né a sinistra l'asina vide l'angelo dell'Eterno e si sdraiò sotto Balaam e l'ira di Balaam si accese ed egli percosse l'asina con un bastone allora l'Eterno aprì la bocca all'asina che disse a Balaam che ho fatto che tu mi percuoti già per la terza volta e Balaam rispose all'asina perché ti sei fatta beffe di me ah se avessi una spada in mano ti ammazzerei sull'attimo e l'asina disse a Balaam non sono io la tua asina che hai sempre cavalcato fino a quest'oggi sono io solita far così ed egli rispose no allora l'Eterno aprì gli occhi di Balaam ed egli vide l'angelo dell'Eterno che stava sulla strada con la sua spada sguainata Balaam si inchinò e si prostrò con la faccia a terra e l'angelo dell'Eterno gli disse perché hai percorso la tua asina già tre volte ecco io sono uscito per farti ostacolo perché la via che batti è contraria al voler mio e l'asina ma visto ed è uscita di strada davanti a me queste tre volte se non fossi uscita di strada davanti a me certo io avrei già ucciso te e lasciato in vita lei allora Balaam disse all'angelo del Signore io ho peccato perché non sapevo che tu ti fossi posto contro di me sulla strada e ora se questo ti dispiace io me ne ritornerò e l'angelo dell'Eterno disse a Balaam va pure con quegli uomini ma dirai soltanto quello che io ti dirò e Balaam se ne andò coi principi di Balaam quando Balaam udì che Balaam arrivava gli andò incontro a Girmoab che è sul confine segnato dall'Arnon nella frontiera estrema e Balaam disse a Balaam non ti ho mandato con insistenza a chiamare perché non sei venuto da me non sono io proprio in grado di farti onore e Balaam risse a Balaam ecco sono venuto da te ma posso io adesso dire qualsiasi cosa la parola che Dio mi metterà in bocca quella dirò Balaam andò con Balaam e giunsero a Kirial utsot mandò Balaam che sacrificò voi e pecore e mandò parte delle carni a Balaam e ai principi che erano con lui la mattina la mattina Balaam prese Balaam e lo fece salire a Boma donde Balaam vide l'estremità del campo di Israele numeri capitolo ventitresimo Balaam disse a Balaam edificami qui vi sette altari e preparami qui sette giovenchi e sette montoni Balaam fece come Balaam aveva detto e Balaam e Balaam offrirono un giovenco e un montone su ciascun altare e Balaam disse a Balaam statene presso al tuo olocausto e io andrò forse l'Eterno mi verrà incontro e quel che mi avrà fatto vedere te lo riferirò e se ne andò sopra una nuda altura e Dio si fece incontro a Balaam e Balaam gli disse io ho preparato i sette altari e ho offerto un giovenco e un montone su ciascun altare allora l'Eterno mise delle parole in bocca a Balaam e gli disse torna da Balaam e parla così Balaam tornò da Balaam ed ecco che questi stava presso al suo olocausto egli con tutti i principi di Moab allora Balaam pronunziò il suo oracolo e disse Balaam m'ha fatto venire da Aram il re di Moab dalle montagne d'Oriente vieni disse maledicimi Giacobbe vieni esacra Israele come farò a maledire e Dio non l'ha maledetto come farò ad esacrare l'Eterno non l'ha esacrato io lo guardo dal sommo delle rupi e lo contemplo dall'alto dei colli ecco è un popolo che dimora solo e non è contato nel novero delle nazioni chi può contare la polvere di Giacobbe o calcolare il quarto di Israele possa io morire della morte dei giusti e possa alla mia fine essere simile alla loro allora Balak disse a Balaam che mai tu fatto t'ho preso per maledire i miei nemici ed ecco non hai fatto che benedirli l'altro gli rispose e disse non debbo io stare attento e dire soltanto ciò che l'Eterno mi mette in bocca e Balak gli disse dè vieni meco in un altro luogo dove tu lo potrai vedere tu di qui non puoi vedere che un'estremità non lo puoi vedere tutto quanto e di là me lo maledirai e lo condusse al campo di Zofim sulla scima del Pisga edificò sette altari e offrì un giovenco e un montone su ciascun altare e Balaam disse a Bala statene qui presso al tuo olocausto e io andrò a incontrare l'Eterno e l'Eterno si fece incontro a Balaam gli mise delle parole in bocca e gli disse torna da Balak e parla così Balaam tornò da Balak ed ecco che questi stava presso al suo olocausto coi principi di Moab e Balaam gli disse che ha detto l'Eterno allora Balaam pronunziò il suo oracolo e disse levati Balak e ascolta porgimi orecchio figliuolo di Zippor e Dio non è un uomo perché mentiscane un figlio al duomo poiché si penta quando ha detto una cosa non la farà o quando ha parlato non metterà la parola ecco ho ricevuto l'ordine di benedire e gli ha benedetto io non revocherò la benedizione egli non scorge iniquità in Giacobbe non vede perversità in Israele l'Eterno il suo Dio è con lui e Israele lo acclama come suo re il Dio lo ha tratto dall'Egitto e gli dà il vigore del bufalo in Giacobbe non vè magia in Israele non vè divinazione a suo tempo viene detto a Giacobbe ed Israele qual è l'opera che Dio compie ecco un popolo che si leva su come una leonessa e si rizza come un leone e non si sdraia prima d'aver divorato la preda e bevuto il sangue di quelli che ha ucciso allora Balak disse a Balam non lo maledire ma anche non lo benedire ma Balam rispose e disse a Balak non toio detto espressamente io farò tutto quello che l'Eterno dirà e Balak disse a Balam dè vieni io ti condurrò in un altro luogo forse piacerà Dio che tu me lo maledica di là Balak dunque condusse Balam in cima al Peor che domina il deserto e Balam disse a Balak edificami qui sette altari e preparami qui sette giovenchi e sette montoni e Balak fece come Balam aveva detto e offrì un giovenco e un montone su ciascun altare numeri capitolo ventiquattresimo e Balam vedendo che piaceva l'Eterno di benedire Israele non ricorse come le altre volte alla magia ma voltò la faccia verso il deserto e alzati gli occhi Balam vide Israele accampato tribù per tribù e lo spirito di Dio fu sopra lui e Balam pronunziò il suo oracolo e disse così dice Balam figliolo di Beor così dice l'uomo che ha l'occhio aperto e così dice colui che ode le parole di Dio colui che contempla la visione dell'onnipotente colui che si prostra e a cui s'aprono gli occhi come son belle le tue tende o Giacobbe le tue dimore o Israele esse si estendono come valli come giardini in riva o un fiume come aloe piantati dall'eterno come cedri vicini alle acque l'acqua trabocca dalle sue secchie e la tua semenza è bene ad acquata il suo re sarà il più alto di Agar il suo regno sarà esaltato il Dio che t'ha tratto dall'Egitto gli dà vigore del bufalo egli divorerà i popoli che gli sono avversari frantumerà loro le ossa e li trafiggerà con le sue frecce egli si china s'accovaccia come un leone come una leonessa chi lo farà rizzare benedetto chiunque ti benedice maledetto chiunque ti maledice allora l'ira di Balak si accese contro Balam e Balak battendo la mano disse a Balam io ho t'ho chiamato per maledire i miei nemici ed ecco che li hai benedetti già per la terza volta ordunque fuggitene a casa tua io avevo detto che ti colmerei di onori ma ecco l'Eterno ti rifiuta gli onori e Balam rispose a Balak e non dissi io fin dal principio agli ambasciatori che mi mandasti quando anche Balak mi desse la sua casa piena d'argento e d'oro non potrei trasverire l'ordine dell'Eterno per far la mia iniziativa alcunché di bene o di male ciò che l'Eterno dirà quello dirò ed ora ecco io me ne vado al mio popolo vieni io ti annunzierò ciò che questo popolo farà al popolo tuo nei giorni a venire allora Balam pronunziò il suo oracolo e disse così dice Balam figliolo di Beor così dice l'uomo che ha l'occhio aperto così dice colui che ode le parole di Dio che conosce la scienza dell'Altissimo e che contempla la visione dell'Onipotente colui che si prostra e a cui si aprono gli occhi lo vedono ma non ora lo contemplo ma non vicino un astro sorge da Giacobbe e uno scettro si eleva da Israele che colpirà Moab da un campo all'altro e abbatterà tutta quella razza turbolenta si impadronirà di Edon si impadronirà di Seir suo nemico Israele farà prodezze da Giacobbe verrà un dominatore che sterminerà i superstiti delle città Balaam vide anche Amalek e pronunciò il suo oracolo dicendo Amalek è la prima delle nazioni ma il suo avvenire fa capo alla rovina vide anche i Chenei e pronunciò il suo oracolo dicendo la tua dimora è solida e il tuo nido è posto nella roccia non di meno il Cheneo dovrà essere devastato finché la Siro ti meni in cattività poi pronunciò di nuovo il suo oracolo e disse ahimè chi sussisterà quando lì Dio avrà stabilito colui ma delle navi verranno dalle parte di Chiting e umilieranno Assur umilieranno Eber ed egli pure finirà per essere distrutto poi Balaam si levò e partì e se ne tornò a casa sua e Bala pure se ne andò per la sua strada numeri capitolo venticinquesimo ora Israele era stanziato a Sittim e il popolo cominciò a darsi all'impurità con le figliole di Moab esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei e il popolo mangiò e si prostrò dinanzi agli dei di quelle Israele si unì a Balpeor e l'ira dell'Eterno si accesse contro Israele e l'Eterno disse a Mosè prendi tutti i capi del popolo e falli appiccare davanti all'Eterno in faccia al sole affinché l'ardente ira dell'Eterno sia rimossa da Israele e Mosè disse ai giudici di Israele ciascuno di voi uccida quelli dei suoi uomini che si sono uniti a Balpeor ed ecco che uno dei figlioli di Israele venne e condusse ai suoi fratelli una donna medianita sotto gli occhi di Mosè e di tutta la radunanza dei figlioli di Israele mentre si stavano piangendo all'ingresso della tenda di convegno la qualcosa avendo veduta Fineas figliolo di Eleazar figliolo del sacerdote Aronne si alzò di mezzo alla radunanza e diedi piglio ad una lancia andò dietro a quell'uomo di Israele nella sua tenda e li trafisse ambe due l'uomo di Israele e la donna nel basso ventre e il flagello cessò tra i figlioli di Israele di quel flagello morirono ventiquattro mila persone l'Eterno parlò a Mosè dicendo Fineas figliolo di Eleazar figliolo del sacerdote Aronne ha rimossa l'ira mia dai figlioli di Israele perché egli è stato animato dal mio zelo in mezzo ad essi ed io nella mia indignazione non ho sterminato i figlioli di Israele perciò digli che io fermo con lui un patto di pace che sarà per lui e per la sua progenie dopo di lui l'alleanza di un sacerdozio perpetuo perché egli ha avuto zelo per il suo dio e ha fatta l'espiazione per i figlioli di Israele or l'uomo di Israele che fu ucciso con la donna Madianita si chiamava Zimri figliolo di Salù capo di una casa patriarcale di Simeoniti e la donna che fu uccisa la Madianita si chiamava Cosbi figliola di Zur capo della gente di una casa patriarcale di Madian poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo trattate i Madianiti come nemici e uccideteli poiché essi vi hanno trattati da nemici con inganni mediante i quali vanno sedotti nell'affare di Peor e nell'affare di Cosbi figliola di un principe di Madian loro sorella che fu uccisa il giorno della piaga causata dall'affare di Peor Numeri capitolo ventiseiesimo Ora venne che dopo quella piaga l'Eterno disse a Mosè e ad Eleazar figliolo del sacerdote Aronne fate il conto di tutta la radunanza dei figlioli di Israele dall'età di vent'anni in su secondo le case dei loro padri di tutti quelli che in Israele possano andare alla guerra e Mosè e il sacerdote Eleazar parlarono loro nelle pianure di Moab presso al Giordano di faccia Gerico dicendo si faccia il censimento dall'età di vent'anni in su come l'Eterno ha ordinato a Mosè e ai figlioli di Israele quando furono usciti dal paese d'Egitto Ruben primogenito di Israele figliolo di Ruben Hanok da cui discese la famiglia degli Anokiti Pallu da cui discese la famiglia dei Palluiti Edstron da cui discende la famiglia degli Edstroniti Carmi da cui discende la famiglia dei Carmiti tali sono le famiglie dei Rubeniti e quelli dei quali si fece il censimento furono quarantatremila settecentotrenta i figlioli di Pallu Eliab figlioli di Eliab Nemel Datan e Abiram questi sono quelli del Datan e dell'Abiram membri del consiglio che si sollevarono contro Mosè e contro Aron e con la gente di Core quando si sollevarono contro l'Eterno e la terra aprì la sua bocca e l'inghiottì assieme con Core allorché quella gente perì e il fuoco diverò duecentocinquanta uomini che servirono d'esempio ma i figlioli di Core non perirono figlioli di Simeone secondo le loro famiglie da Nemuel discende la famiglia dei Numueliti da Jamin la famiglia dei Jaminiti da Jacchin la famiglia degli Giacchiniti da Zarek la famiglia dei Zarechiti e da Saul la famiglia dei Sauliti tali sono le famiglie dei Simeoniti 22.200 figlioli di Gad secondo le loro famiglie da Zephon discende la famiglia dei Zephoniti da Aghi la famiglia degli Aghiti da Shuni la famiglia degli Shuniti da Ozni la famiglia degli Ozniti da Eri la famiglia degli Eriti da Harod la famiglia degli Arroditi da Ariel la famiglia degli Arieliti tali sono le famiglie dei figlioli di Gad secondo il loro scensimento 40.500 figlioli di Giuda Er e Onam ma Er e Onam morirono nel paese di Canaan ecco i figlioli di Giuda secondo le loro famiglie da Shela discende la famiglia degli Shelaniti da Perez la famiglia dei Pereziti da Zerac la famiglia dei Zerachiti i figlioli di Perez furono Estrom da cui discende la famiglia degli Estroniti Amul da cui discende la famiglia degli Amuliti tali sono le famiglie di Giuda secondo il loro scensimento 76.500 figlioli di Zaccar secondo le loro famiglie da Tola discende la famiglia dei Tolaiti da Puva la famiglia dei Puviti da Jashub la famiglia degli Jashubiti da Shimron la famiglia degli Shimroniti tali sono le famiglie di Zaccar secondo il loro scensimento 64.300 figlioli di Zabulon secondo le loro famiglie da Serè discende la famiglia dei Sarditi da Elon la famiglia degli Eloniti da Jalil la famiglia degli Yalititi tali sono le famiglie degli Zabuloniti secondo il loro scensimento 60.500 figlioli di Giuseppe secondo le loro famiglie Manasse ed Efren figlioli di Manasse da Machir discende la famiglia dei Machiriti da Machir di genero Gala da Gala discende la famiglia dei Galaiti questi sono i figlioli di Galat Gesel da cui discende la famiglia dei Geresiti Elek da cui discende la famiglia degli Elekiti Azriel da cui discende la famiglia degli Azrieliti Sikem da cui discende la famiglia dei Sikemiti Semida da cui discende la famiglia dei Shemanandai Efer da cui discende la famiglia degli Eferiti Or Zelofehat, figliolo di Efer, non ebbe maschi, ma soltanto delle figliole, e i nomi delle figliole di So-Lefar furono Mahala, Noa, Ogla, Milka e Tirusa. Tali sono le famiglie di Menasse. Le persone censite furono cinquantaduemila seicento. Ecco i figlioli di Efraim secondo le loro famiglie. Da Shutela discende la famiglia degli Shutela-Hiti, da Beker la famiglia dei Bacchiriti, da Tahan la famiglia dei Tahaniti, ed ecco i figlioli di Shutela. Da Hera è discesa la famiglia degli Eraniti. Tali sono le famiglie dei figlioli di Efraim secondo il loro censimento trentaduemila cinquecento. Questi sono figlioli di Giuseppe secondo le loro famiglie. Figlioli di Meniamino secondo le loro famiglie. Da Bella discende la famiglia di Belaiti, da Ashbel la famiglia degli Ashbeliti, da Hiram la famiglia degli Hiramiti, da Shefulan la famiglia degli Shefamiti, da Ufa la famiglia degli Ufamiti. Figlioli di Bella furono Ard e Anaham. Da Arad discende la famiglia degli Arditi, da Naaman la famiglia dei Naamiti. Tali sono i figlioli di Meniamino secondo le loro famiglie. Le persone censite furono quarantacinque mila seicento. Ecco i figlioli di Dan secondo le loro famiglie. Da Shuham discende la famiglia degli Shumaniti. Sono queste le famiglie di Dan secondo le loro famiglie. Totale per le famiglie degli Shumaniti secondo il loro censimento, sessantaquattromilaquattrocento. Figlioli di Ashè secondo le loro famiglie. Da Imna discende la famiglia degli Imniti. Da Ishvi la famiglia degli Ishviti. Da Beriat la famiglia dei Beriti. Dai figlioli di Beria discendono. Heber è la famiglia degli Ebriti. Da Malkiel la famiglia dei Malkieliti. Il nome della figliola di Ashè era Serat. Tali sono le famiglie dei figlioli di Ashè secondo il loro censimento, cinquantatremilaquattrocento. Figlioli di Neftali secondo le loro famiglie. Da Yatzeel discende la famiglia degli Yatzeeliti. Da Guni la famiglia dei Guniti. Da Getzeel la famiglia dei Getzeriti. Da Shilam la famiglia degli Shilimiti. Tali sono le famiglie di Neftali secondo le loro famiglie. Le persone censite furono quarantacinquemilaquattrocento. Tali sono i figlioli di Israele di cui si fece il censimento, seicentummilasettecentotrenta. L'Eterno parlò a Mosè dicendo, il paese sarà diviso tra essi per essere loro proprietà secondo il numero dei nomi. A quelli che sono in maggior numero darà in possesso una porzione maggiore, a quelli che sono in minor numero darà una porzione minore. Si darà a ciascuno la sua porzione secondo il censimento. Ma la spartizione del paese sarà fatta a sorte. Essi riceveranno la rispettiva proprietà secondo i nomi delle loro tribù paterne. La spartizione delle proprietà sarà fatta a sorte fra quelli che sono in maggior numero e quelli che sono in numero minore. Ecco i Leviti dei quali si fece il censimento secondo le loro famiglie. Da Gerson discende la famiglia dei Gersoniti, da Keahat la famiglia dei Keatiti, da Merari la famiglia dei Merariti, ecco le famiglie di Levi, la famiglia dei Libniti, la famiglia degli Ebroniti, la famiglia dei Maliti, la famiglia dei Muschiti, la famiglia dei Koraniti. A Keahat generò Amram. Il nome della moglie di Amram era Yochabed, figliola di Levi, che nacque a Levi in Egitto, ed essa partorì ad Amram Aronne, Mosè, Maria, loro sorella. Ed Aronne nacquero Nadab, Abihu, Eleazar e Itmar. Or, Nadab e Abihu morirono quando presentarono all'eterno fuoco estraneo. Quelli dei quali si fece il censimento furono ventitremila, tutti maschi, dall'età di un mese in su. Non furono compresi nel censimento dei figlioli di Israele, perché non fu loro data alcuna proprietà tra i figlioli di Israele. Tali sono quelli dei figlioli di Israele, dei quali Mosè e il sacerdote Eleazar fecero il censimento nelle pianure di Moab, presso al Giordano di Gerico. Fra questi non vera alcuno di quei figlioli di Israele, dei quali Mosè e il sacerdote Aronne avevano fatto il censimento nel deserto di Sinai, poiché l'Eterno aveva detto di loro, certo morranno nel deserto. E non ne rimase neppure uno, salvo Caleb, figliolo di Ghefunne, e Giosuè, figliolo di Nun. Numeri, capitolo ventisettesimo Ora, le figliole di Tselof e Had, figliolo di Efer, figliolo di Galaat, figliolo di Makir, figliolo di Menasse, delle famiglie di Menasse, figliolo di Giuseppe, che si chiamano Mahal, Noha, Ogla, Milca e Tirsta, si accostarono e si presentarono davanti a Mosè, davanti al sacerdote Eleazar, davanti ai principi e a tutta la radunanza all'ingresso della tenda di convegno, e dissero, Il Padre nostro morì nel deserto, e non fu nella compagnia di quelli che si adunarono contro l'Eterno, non fu della genia di Core, ma morì a motivo del suo peccato, e non ebbe figlioli. Perché dovrebbe il nome del Padre nostro scomparire di mezzo alla sua famiglia, se egli non ebbe figlioli? Dateci un possesso in mezzo ai fratelli di nostro Padre. E Mosè portò la loro causa davanti all'Eterno, e l'Eterno disse a Mosè, Le figliole di Tselof e Had dicono bene, Sì, tu darai loro in eredità un possesso tra i fratelli del Padre loro, e farai passare ad essi l'eredità del Padre loro. Parlerai pure ai figlioli di Israele e dirai, Quando uno sarà morto senza lasciare figliolo o maschio, farete passare l'eredità sua alla sua figliola. E se non ha figliola, darete la sua eredità ai suoi fratelli. E se non ha fratelli, darete la sua eredità ai fratelli di suo padre. E se non ci sono fratelli del Padre, darete la sua eredità al parente più stretto della sua famiglia, e quello la possederà. Questo sarà per i figlioli di Israele una norma di diritto come l'Eterno ha ordinato a Mosè. Poi l'Eterno disse a Mosè, Sali su questo monte di Abarin e contempla il paese che io do ai figlioli di Israele. E quando l'avrai veduto, anche tu sarai raccolto presso il tuo popolo, come fu raccolto Aaron e tuo fratello, perché vi ribellaste all'ordine che vi detti nel deserto di Zin, quando la radunanza si mise a contendere, e voi non mi santificaste agli occhi loro a proposito di quelle acque. Sono le acque della contessa di Cades nel deserto di Zin. E Mosè parlò all'Eterno dicendo, Gli darai i tuoi ordini in loro presenza, e lo farai partecipe della tua autorità, affinché tutta la radunanza dei figlioli di Israele li obbedisca. Egli si presenterà davanti al sacerdote Eleazar, che consulterà per lui il giudizio dell'Urin davanti all'Eterno. Egli e tutti i figlioli di Israele con lui, e tutta la radunanza usciranno all'ordine di Eleazar ed entreranno all'ordine suo. E Mosè fece come l'Eterno li aveva ordinato, presi Giosuè, e lo fece comparire davanti al sacerdote Eleazar, e davanti a tutta la radunanza. Possò su lui le sue mani, e gli diede i suoi ordini come l'Eterno aveva comandato per mezzo di Mosè. NUMERI CAPITOLO VENTOTESIMO E l'Eterno parlò a Mosè, dicendo, da quest'ordine ai figlioli di Israele e di loro, avrete cura d'offrirmi al tempo stabilito la mia offerta, il cibo dei miei sacrifici fatti mediante il fuoco, e che mi sono di soave odore, e dirai loro, questo è il sacrificio mediante il fuoco che offrirete all'Eterno, degli agnelli dell'anno senza difetti, due al giorno come olocausto perpetuo. Uno degli agnelli offrirai la mattina, e l'altro agnello l'offrirai sull'imbrunire, e come l'oblazione un decimo defa di fior di farina intrisa con un quarto di in d'olio vergine. Tale è l'olocausto perpetuo offerto sul monte Sinai, sacrificio fatto mediante il fuoco di suo avodore all'Eterno. L'alibazione sarà di un quarto di in per ciascun agnello, l'alibazione di vino puro all'Eterno, la farai nel luogo santo, e l'altro agnello l'offrirai sull'imbrunire come un'oblazione e un'alibazione simile a quella della mattina. È un sacrificio fatto mediante il fuoco di soave odore all'Eterno. Nel giorno di sabato offrirete due agnelli dell'anno senza difetti e, come l'oblazione, due decimi di fior di farina intrisa con un olio con la sua alibazione, e l'olocausto del sabato per ogni sabato, oltre l'olocausto perpetuo e la sua alibazione. Al principio dei vostri mesi offrirete come olocausto all'Eterno due giovenchi, un montone, sette agnelli dell'anno senza difetti, e tre decimi di fior di farina intrisa con olio come l'oblazione per ciascun giovenco, due decimi di fior di farina intrisa con olio come oblazione per il montone, e un decimo di fior di farina intrisa con olio come l'oblazione per ogni agnello, e un olocausto di soave odore, un sacrificio fatto mediante il fuoco all'Eterno. Le alibazioni saranno di un mezzo indivino per giovenco, d'un terzo di him per il montone e di un quarto di him per l'agnello, tale l'olocausto del mese per tutti i mesi dell'anno. E soffrirà all'Eterno un capro come sacrificio per il peccato, oltre l'olocausto perpetuo e la sua alibazione. Il primo mese Il quattordicesimo giorno del mese sarà la Pasqua in onore dell'Eterno, e il quindicesimo giorno di quel mese sarà giorno di festa. Per sette giorni si mangerà pane senza lievito, e il primo giorno vi sarà una santa convocazione, non farete alcuna opera servile, ma offrirete come sacrificio mediante il fuoco un olocausto all'Eterno, due giovenchi, un montone e sette agnelli dell'anno, che siano senza difetti, e come l'oblazione del fior di farina intrisa con olio, E ne offrirete tre decimi per giovenco, due per il montone, e ne offrirete un decimo per ciascuno dei sette agnelli, e offrirai un capro come sacrificio per il peccato, per fare l'espiazione per voi. Offrirete questi sacrifici oltre l'olocausto della mattina, che è un olocausto perpetuo, l'offrirete ogni giorno per sette giorni, e un cibo di sacrificio fatto mediante il fuoco di suo avvedore all'Eterno. Lo si offrirà oltre l'olocausto in perpetuo con la sua libazione, e il settimo giorno avrete una santa convocazione, e non farete alcuna opera servile. Il giorno delle primizie, quando presenterete all'Eterno un'oblazione nuova alla vostra festa delle settimane, avrete una santa convocazione, e non farete alcuna opera servile, e offrirete come un olocausto di suave odore all'Eterno due giovenchi, un montone e sette agnelli l'anno, e come l'oblazione del fior di farina entrisa con olio, tre decimi per ciascun giovenco, due decimi per il montone, e un decimo per ciascuno dei sette agnelli, e offrirete un capro per fare l'espiazione per voi. Offrirete questi sacrifici, oltre l'olocausto perpetuo e la sua oblazione. Sceglierete degli animali senza difetti, e vi aggiungerete le relative libazioni. Numeri capitolo ventinovesimo Il settimo mese, il primo giorno del mese, avrete una santa convocazione. Non farete alcuna opera servile, e sarà per voi il giorno del suono delle trombe. Offrirete come olocausto di suave odore all'Eterno un giovenco, un montone, sette agnelli dell'anno senza difetti, e come oblazione del fior di farina entrisa con olio, tre decimi per il giovenco, due decimi per il montone, un decimo per ciascuno dei sette agnelli, e un capro come sacrificio per il peccato, per fare l'espiazione per voi, oltre l'olocausto del mese con la sua oblazione, e l'olocausto perpetuo con la sua oblazione, e le loro libazioni secondo le regole stabilite. Sarà un sacrificio fatto mediante il fuoco di suave odore all'Eterno. Il decimo giorno di questo settimo mese avrete una santa convocazione, e umilierete le anime vostre, non farete lavoro di sorte, e offrirete come olocausto di suave odore all'Eterno un giovenco, un montone, sette agnelli dell'anno, che siano senza difetti, e come oblazione del fior di farina entrisa con olio, tre decimi per il giovenco, due decimi per il montone, un decimo per ciascuno dei sette agnelli, e un capro come sacrificio per il peccato, oltre il sacrificio dell'espiazione, l'olocausto perpetuo con la sua oblazione e le sue libazioni. Il quindicesimo giorno del settimo mese avrete una santa convocazione, non farete alcuna opera servile, e celebrerete una festa in onore dell'Eterno per sette giorni, e offrirete come olocausto, come sacrificio fatto mediante il fuoco di suave odore all'Eterno, tredici giovenchi, due montoni, quattordici agnelli dell'anno, che siano senza difetti, e come oblazione del fior di farina entrisa con olio, tre decimi per ciascuno dei tredici giovenchi, due decimi per ciascuno dei due montoni, un decimo per ciascuno dei quattordici agnelli, e un capro come sacrificio per il peccato, oltre l'olocausto perpetuo con la sua oblazione e la sua libazione. E il secondo giorno offrirete dodici giovenchi, due montoni, quattordici agnelli dell'anno, senza difetti, con le loro oblazioni e le loro libazioni per i giovenchi, i montoni e gli agnelli, secondo il loro numero, seguendo le regole stabilite, e un capro come sacrificio per il peccato, oltre l'olocausto perpetuo e la sua obbligazione e la sua libazione. Il terzo giorno offrirete undici giovenchi, due montoni, quattordici agnelli dell'anno, senza difetti, con le loro oblazioni e le loro libazioni per i giovenchi, i montoni e gli agnelli, secondo il loro numero, seguendo le regole stabilite, e un capro come sacrificio per il peccato, oltre l'olocausto perpetuo, la sua oblazione e la sua libazione. Il quarto giorno offrirete dieci giovenchi, due montoni, quattordici agnelli dell'anno, senza difetti, con le loro offerte e le loro libazioni per i giovenchi e i montoni e gli agnelli, secondo il loro numero, e secondo le regole stabilite, e un capro come sacrificio per il peccato, oltre l'olocausto perpetuo, la sua oblazione e la sua libazione. Il quinto giorno offrirete nove giovenchi, due montoni, quattordici agnelli dell'anno, senza difetti, con le loro oblazioni e le loro libazioni per i giovenchi e i montoni e gli agnelli, secondo il loro numero, eseguendo le regole stabilite, e un capro come sacrificio per il peccato, oltre l'olocausto perpetuo, la sua oblazione e la sua libazione. Il sesto giorno offrirete otto giovenchi, due montoni, quattordici agnelli dell'anno, senza difetti, con le loro oblazioni e le loro libazioni per i giovenchi, i montoni e gli agnelli, secondo il loro numero, eseguendo le regole stabilite, e un capro come sacrificio per il peccato, oltre l'olocausto perpetuo, la sua oblazione e la sua libazione. Il settimo giorno offrirete sette giovenchi, due montoni, quattordici agnelli dell'anno, senza difetti, con le loro oblazioni e le loro libazioni per i giovenchi, i montoni e gli agnelli, secondo il loro numero, eseguendo le regole stabilite, e un capro come sacrificio per il peccato, oltre l'olocausto perpetuo, la sua oblazione e la sua libazione. L'ottavo giorno avrete una solenne radunanza, non farete alcuna opera servile, e offrirete come olocausto, come sacrificio fatto mediante il fuoco, di suo avvedore all'eterno, un giovenco, un montone, sette agnelli dell'anno, senza difetti, con le loro oblazioni e le loro libazioni per il giovenco, il montone e gli agnelli, secondo il loro numero, seguendo le regole stabilite, e un capro come sacrificio per il peccato, oltre l'olocausto perpetuo, la sua oblazione e la sua libazione. Tali sono i sacrifici che offrirete all'eterno nelle vostre solennità, oltre i vostri voti e le vostre offerte volontarie, sia che si tratti dei vostri olocausti, o delle vostre oblazioni, o delle vostre libazioni, o dei vostri sacrifici di azione di grazie. E Mosè riferì ai figlioli di Israele tutto quello che l'Eterno gli aveva ordinato. Numeri, capitolo trentesimo Mosè parlò ai capi delle tribù dei figlioli di Israele, dicendo, questo è quel che l'Eterno ha ordinato. Quando uno avrà fatto un voto all'Eterno, o davrà con giuramento e contratto una solenne obbligazione, non violerà la sua parola, ma metterà in esecuzione tutto quello che gli è uscito di bocca. Così pure, quando una donna avrà fatto un voto all'Eterno e si sarà legata con un impegno, essendo in casa del padre durante la sua giovinezza, se il padre, avendo conoscenza del voto di lei e dell'impegno per il quale ella si è legata, non dice nulla a questo proposito, tutti i voti di lei saranno validi e saranno validi tutti gli impegni per i quali essa si sarà legata. Ma se il padre, il giorno che ne viene a conoscenza, le fa opposizione, tutti i voti di lei, tutti gli impegni per i quali si sarà legata, non saranno validi, e l'Eterno le perdonerà, perché il padre le ha fatto opposizione. E se viene a maritarsi secondo, essendole legata da voti o da una promessa fatta alla leggera con le labbra, per la quale si sia impegnata, se il marito ne ha conoscenza e il giorno che ne viene a conoscenza non le dice nulla a questo proposito, i voti di lei saranno validi e saranno validi gli impegni per i quali ella si è legata. Ma se il marito, il giorno che ne viene a conoscenza, le fa opposizione, egli annullerà il voto che ella ha fatto e la promessa che ha proferito alla leggera per la quale si è impegnata, e l'Eterno le perdonerà. Ma il voto di una vedova o di una donna ripudiata, qualunque sia l'impegno per il quale si sarà legata, rimarrà valido. Quando una donna nella casa di suo marito farà dei voti o si legherà con un giuramento, e il marito ne avrà conoscenza, se il marito non dice nulla a questo proposito e non le fa opposizione, e tutti i voti di lei saranno validi, e saranno validi tutti gli impegni per i quali essa si sarà legata. Ma se il marito, il giorno che ne viene a conoscenza, li annulla, tutto ciò che le sarà uscito dalle labbra, sian voti o impegni per cui si è legata, non sarà valido, il marito lo ha annullato, e l'Eterno le perdonerà. Il marito può rettificare, e il marito può annullare qualunque voto e qualunque giuramento per il quale ella si è impegnata a mortificare la sua persona. Ma se il marito, giorno dopo giorno, non dice nulla in proposito, egli ratifica così tutti i voti di lei e tutti gli impegni per i quali ella si è legata, li ratifica perché non ha detto nulla a questo proposito il giorno che ne ha avuto conoscenza. Ma se li annulla, qualche tempo dopo averne avuto conoscenza, sarà responsabile del peccato della moglie. Tali sono le leggi che l'Eterno prescrisse a Mosè riguardo al marito e alla moglie, al padre e alla figliuola, quando questa è ancora fanciulla in casa di suo padre. Libro dei Numeri, capitolo trentunesimo Poi l'Eterno parlò a Mosè, dicendo, Vendica i figliuoli di Israele dei medianiti, poi sarai raccolto col tuo popolo. E Mosè parlò al popolo, dicendo, Mobilitate fra il popolo uomini per la guerra e marcino contro Madian per eseguire la vendetta dell'Eterno su Madian. Manderete alla guerra mille uomini per tribù di tutte le tribù di Israele. Così furono forniti, fra le migliaia di Israele, mille uomini per tribù, cioè dodicimila uomini armati per la guerra. E Mosè mandò alla guerra quei mille uomini per tribù e con loro Fineas, figliuolo del sacerdote Eleazar, il quale portava gli strumenti sacri ed aveva in mano le trombe d'allarme. Essi marciarono dunque contro Madian, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè, e uccisero tutti i maschi, uccisero pure, con tutti gli altri, i re di Madian, Evi, Rechem, Zur, Hur e Reba, cinque re di Madian, uccisero pure con la spada Balaam, figliuolo di Beor, e i figliuoli di Israele, presero prigioniere le donne di Madian e i loro fanciulli, e predarono tutto il loro bestiame, tutto i loro greggi ed ogni loro bene, e appiccarono il fuoco a tutte le città che quelli abitavano, e a tutti i loro accampamenti, e presero tutte le spoglie e tutta la preda, gente e bestiame, e condussero i prigionieri, la preda e le spoglie, a Mosè, al sacerdote Eleazar, e alla radunanza dei figlioli di Israele accampati nelle pianure di Moab, presso il Giordano di Faccia, a Gerico. Mosè, il sacerdote Eleazar, e tutti i principi della radunanza uscirono loro incontro fuori del campo, e Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito, capi di migliaia e capi di centinaia che tornavano da quella spedizione di guerra. Mosè disse loro, avete lasciato la vita a tutte le donne? Ecco, sono esse che, a suggestione di Balaam, trascinarono i figlioli di Israele all'infedeltà verso l'Eterno, nel fatto di Peor, onde la piaga scoppiò nella radunanza dell'Eterno. Ordunque uccidete ogni maschio fra i fanciulli e uccidete ogni donna che ha avuto relazioni carnale con un uomo, ma tutte le fanciulle che non hanno avuto relazioni carnali con gli uomini, serbatele in vita per voi. E voi, accampatevi per sette giorni fuori del campo, chiunque ha ucciso qualcuno, e chiunque ha toccato una persona uccisa, si purifichi il terzo e il settimo giorno, e questo tanto per voi quanto per i vostri prigionieri. Purificherete anche ogni vesti, ogni oggetto di pelle, ogni lavoro di pelle di capra, e ogni utensile di legno. E il sacerdote Eleazar disse ai soldati che erano andati alla guerra. Questo è l'ordine della legge che l'Eterno ha prescritta a Mosè. L'oro, l'argento, il ramo, il ferro, lo stagno e il piombo, tutto ciò insomma che può reggere al fuoco, lo farete passare per il fuoco e sarà reso puro. Non di meno, sarà purificato anche con l'acqua di purificazione, e tutto ciò che non può reggere al fuoco, lo farete passare per l'acqua, e vi laverete le vesti il settimo giorno e sarete puri. Poi potrete entrare nel campo. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, Tu, col sacerdote Eleazar, e con i capi delle casse e della radunanza, fai il conto di tutta la preda che è stata fatta, della gente e del vestiame, e dividi la preda fra i combattenti che sono andati alla guerra e tutta la radunanza. Dalla parte spettante ai soldati che sono andati alla guerra, preleverai un tributo per l'Eterno, cioè uno su cinquecento, tanto delle persone quanto dei buoi, degli asini e delle pecore. Lo prenderete sulla loro metà e lo darai al sacerdote Eleazar come un'offerta all'Eterno, e della metà che spetta ai figlioli di Israele prenderai uno su cinquanta tanto delle persone quanto dei buoi, degli asini e delle pecore, di tutto il vestiame, e lo darai alle viti che hanno l'incarico del tabernacolo dell'Eterno. E Mosè e il sacerdote Eleazar alfescero come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. Or la preda, cioè quel che rimaneva del bottino fatto da quelli che erano stati alla guerra, consisteva in seiccentosettantacinquemila pecore, settantaduemila buoi, e sessantamila asini, e trentaduemila persone, ossia donne, che non avevano avuto relazioni carnali con gli uomini. La metà, cioè la parte di quelli che erano andati alla guerra, fu trecentotrentasettemilacinquecento pecore, delle quali seicentosettantacinque per il tributo all'Eterno, trentaseimila bovi, dei quali settantadue per il tributo all'Eterno, e trentamila cinquecento asini, dei quali sessantuno per il tributo all'Eterno, e sedicimila persone, delle quali trentadue per il tributo all'Eterno, e Mosè dette al sacerdote Eleazar il tributo prelevato per l'offerta all'Eterno, come l'Eterno li aveva ordinato. La metà che aspettava ai figlioli di Israele dopo che Mosè ebbe fatta la spartizione con gli uomini andati alla guerra, la metà aspettante alla radunanza, fu trecentotrentasette mila cinquecento pecore, trentaseimila buoi, e trentamila cinquecento asini, e sedicimila persone. Da questa metà che aspettava i figlioli di Israele, Mosè prese uno su cinquanta tanto degli uomini quanto degli animali, e li dette e li viti che hanno l'incarico del tabernacolo dell'Eterno, come l'Eterno aveva ordinato a Mosè. I comandanti delle migliaia dell'esercito, capi di migliaia e capi di centinaia, s'avvicinarono a Mosè e gli dissero, i tuoi servi hanno fatto il conto dei soldati che erano sotto i nostri ordini, e non ne manca neppure uno. E noi portiamo come offerta all'Eterno ciascuno quel che ha trovato di oggetti d'oro, catenelle, braccialetti, anelli, pendenti, collane, per far l'espiazione per le nostre persone davanti all'Eterno. E Mosè e il sacerdote Eleazar presero dalle loro mani tutto quell'oro e i gioielli lavorati. Tutto l'oro dell'offerta che essi presentarono all'Eterno da parte dei capi di migliaia e dei capi di centinaia pesava sedici mila e settecentocinquanta sicli. O gli uomini dell'esercito si tenero il bottino che ognuno aveva fatto per conto suo, e Mosè e il sacerdote Eleazar presero l'oro dei capi di migliaia e di centinaia e le portarono nella tenda di convegno come ricordanza per i figlioli di Israele davanti all'Eterno. Numeri capitolo trentaduesimo Or i figlioli di Ruben e i figlioli di Gad avevano del bestiame in grandissimo numero e quando videro che il paese di Yaser e il paese di Galad erano luoghi da bestiame i figlioli di Gad e i figlioli di Ruben vennero a parlare a Mosè al sacerdote Eleazar e ai principi della radunanza e dissero Ataroth Dibon Jezer Nimrat Eshbon Elealek Seban Nebo e Beom terre che l'Eterno ha colpite dinanzi alla radunanza di Israele sono terre da bestiame e i tuoi servi hanno del bestiame e dissero ancora se abbiamo trovato grazie agli occhi tuoi sia concesso ai tuoi servi possesso di questo paese e non ci far passare il Giordano ma Mosè rispose ai figlioli di Gad e ai figlioli di Ruben Andrebbero essi i vostri fratelli alla guerra e voi ne rimareste qui e perché volete scoraggiare i figlioli di Israele dal passare nel paese che l'Eterno ha loro dato così fecero i vostri padri quando li mandai a Kedesh Barnea per esplorare il paese salirono fino alla valle d'Eskol e dopo aver esplorato il paese scoraggiarono i figlioli di Israele dall'entrare nel paese che l'Eterno aveva loro dato e l'ira dell'Eterno s'accese in quel giorno ed egli giurò dicendo gli uomini che sono saliti dall'Egitto dall'età di vent'anni in su non vedranno mai il paese che promisi con giuramento ad Abramo e a Isacco e a Giacobbe perché non m'hanno seguito fedelmente salvo Caleb figliolo di Ghefunne il Kineseo e Giosuè figliolo di Num che hanno seguito l'Eterno fedelmente e l'ira dell'Eterno s'accese contro Israele ed ei lo fece andare vagando per il deserto durante quarant'anni finché tutta la generazione che aveva fatto quel male agli occhi dell'Eterno fosse consumata ed ecco che voi sorgete al posto dei vostri padri razza ad uomini peccatori per rendere l'ira dell'Eterno ancora più ardente contro Israele perché se voi vi sviate da lui egli continuerà a lasciare Israele nel deserto e voi farete perire tutto questo popolo ma quelli si accostarono a Mosè gli dissero noi edificheremo qui dei recinti per il nostro bestiame e delle città per i nostri figlioli ma quanto a noi ci terremo pronti in armi per marciare alla testa dei figlioli di Israele finché li abbiamo condotti al luogo destinato loro intanto i nostri figlioli dimoreranno nelle città forti a cagione degli abitanti del paese noi torneremo alle nostre case finché ciascuno dei figlioli di Israele non abbia preso possesso della sua eredità e non possederemo nulla con loro al di là del Giordano e più oltre già che la nostra eredità ci è toccata da questa parte del Giordano a Oriente e Mosè disse loro se fate questo se vi armate per andare a combattere davanti all'Eterno se tutti quelli di voi che si armeranno passeranno il Giordano davanti all'Eterno finché egli abbia cacciato i suoi nemici dal suo cospetto e se non tornate che quando il paese vi sarà sottomesso davanti all'Eterno voi non sarete colpevoli di fronte all'Eterno e di fronte a Israele e questo paese sarà vostra proprietà davanti all'Eterno ma se non fate così voi avrete peccato contro l'Eterno e sappiate che il vostro peccato vi ritroverà edificatevi delle città per i vostri figlioli e dei recinti per i vostri greggi e fate quello che la vostra bocca ha proferito e i figlioli di Gad e i figlioli di Ruben parlarono a Mosè dicendo i tuoi servi faranno quello che il mio Signore comanda i nostri fanciulli le nostre mogli i nostri greggi e tutto il nostro bestiame rimarranno qui nelle città di Galad ma i tuoi servi tutti quanti armati per la guerra andranno a combattere davanti all'Eterno come dice il mio Signore allora Mosè detto loro degli ordini al sacerdote Eleazar e Giosuè figliolo di Nun e capi famiglia delle tribù dei figlioli di Israele Mosè disse loro se i figlioli di Gad e i figlioli di Ruben passano con voi il Giordano tutti armati per combattere davanti all'Eterno e se il paese sarà totomesso davanti a voi darete loro come proprietà il paese di Galad ma se non passano armati con voi avranno la loro proprietà fra voi nel paese di Canaan e i figlioli di Gad e i figlioli di Ruben risposero dicendo faremo come l'Eterno ha detto ai tuoi servi passeremo in armi davanti all'Eterno nel paese di Canaan ma il possesso della nostra eredità resti per noi di qua dal Giordano Mosè dunque dette ai figlioli di Gad e ai figlioli di Ruben alla metà della tribù di Menasse il figliolo di Giuseppe il regno di Sihon re degli Armorei e il regno di Og re di Basam il paese e le sue città e i territori delle città del paese d'intorno e i figlioli di Gad edificarono Dibon Ataroth Aroer Atroth Shofan Yaser e Yogabeat Bet Nimra e Bet Haram città fortificate e fescero dei recinti per i greggi e i figlioli di Ruben edificarono Eshbon Elealet Kyriataim Nebo e Balaam Meom i cui nomi furono mutati e Sibmat dettero dei nomi delle città che edificarono e i figlioli di Makir figliolo di Menasse andarono nel paese di Galad lo presero e ne cacciarono gli Amorei che vi stavano Mosè dunque dette Galad a Makir figliolo di Menasse che vi si stabilì Yair figliolo di Menasse andò anch'egli e prese i loro borghi e li chiamò Havot Yair e Nobat andò e prese Kenat coi suoi villaggi e le diede nome Nobat Numeri capitolo trentatreesimo queste sono le tappe dei figlioli di Israele che uscirono dal paese d'Egitto secondo le loro schiere sotto la guida di Mosè e di Aronne or Mosè mise in iscritto le loro marce tappa per tappa per ordine dell'Eterno e queste sono le loro tappe nell'ordine delle loro marce partirono da Ramses il primo mese il quindicesimo giorno del primo mese il giorno dopo la Pasqua i figlioli di Israele partirono a testa alta a vista di tutti gli egiziani mentre gli egiziani seppellivano quelli che l'Eterno aveva colpito fra loro cioè tutti i primogeneti allorché anche i loro dei erano stati colpiti dal giudizio dell'Eterno i figlioli di Israele partirono dunque da Ramses e si accamparono a Sukkot partirono da Sukkot e si accamparono a Etan che è all'estremità del deserto partirono da Etan e piegarono verso Pi Ha-Irot che è di rimpetto a Balz e Fong e si accamparono davanti a Migdol partirono dinanzi a Ha-Irot attraversarono il mare in direzione del deserto fecero tre giornate di marcia nel deserto di Etan e si accamparono a Mara partirono da Mara e giunsero a Elin ad Elin c'erano dodici sorgenti d'acqua e settanta palme e qui vi si accamparono partirono da Elin e si accamparono presso il Mar Rosso partirono dal Mar Rosso e si accamparono nel deserto di Sin partirono dal deserto di Sin e si accamparono ad Ofca partirono da Dofca e si accamparono ad Alush partirono da Alush e si accamparono a Refidin dove non c'era acqua da bere per il popolo partirono da Refidin e si accamparono nel deserto di Sinai partirono dal deserto di Sinai e si accamparono a Kibrot a Tava partirono da Kibrot a Tava e si accamparono a Atzeroth partirono da Atzeroth e si accamparono a Ritma. Partirono da Ritma e si accamparono a Rimon-Perez. Partirono da Rimon-Perez e si accamparono a Libna. Partirono da Libna e si accamparono a Rissa. Partirono da Rissa e si accamparono a Kelata. Partirono da Kelata e si accamparono al monte Shefer. Partirono dal monte De Shefer e si accompagnarono a Arada. Partirono da Arada e si accamparono a Mahelot. Partirono da Mahelot e si accamparono a Tathat. Partirono da Tathat e si accamparono a Tzarac. Partirono da Tzarac e si accamparono a Midka. Partirono da Midka e si accamparono a Ashmona. Ashamona. Partirono da Ashamona e si accamparono a Moserot. Partirono da Moserot e si accamparono a Benejaacan. Partirono da Benejaacan e si accamparono a Horgidgad. Partirono da Horgidgad e si accamparono a Jobatat. Partirono da Jobatat e si accamparono ad Abrona. Partirono da Abrona e si accamparono a Ezio Geber. Partirono da Ezio al Gebe, e si accamparono nel deserto di Zin, cioè a Cades. Poi partirono da Cades, e si accamparono al monte Or, all'estremità del paese di Edom. E il sacerdote Aronne salì sul monte Or per ordine dell'Eterno, e qui vi morì il quarantesimo anno dopo l'uscita dei figlioli d'Israele dal paese d'Egitto, il quinto mese e il primo giorno del mese. Aronne era in età di centoventitré anni, quando morì sul monte Or, e il cananeo re Arad, che abitava il mezzogiorno del paese di Canam, udì che i figlioli d'Israele arrivavano, e quelli partirono dal monte Or, e si accamparono a Salmona. Partirono da Salmona, e si accamparono a Punon. Partirono da Punon, e si accamparono a Obot. Partirono da Obot, e si accamparono a Iger Abarin, sui confini di Moab. Partirono da Egip, e si accamparono a Dibodgad. Partirono da Dibodgad, e si accamparono a Almon Diblathim. Partirono da Almon Diblathim, e si accamparono ai monti di Abarin, di rimpetto a Nebo. Partirono dai monti di Abarin, e si accamparono nelle pianure di Moab, presso il Giordano di faccia a Gerico. E si accamparono presso il Giordano, da Bejashimot, fino a Abel-sittim, nelle pianure di Moab. E l'Eterno parlò a Mosè, nelle pianure di Moab, presso il Giordano di faccia a Gerico, dicendo, Parla ai figlioli di Israele e di loro. Quando avrete passato il Giordano, e sarete entrati nel paese di Canaan, caccerete dinanzi a voi tutti gli abitanti del paese, distruggerete tutte le loro immagini, distruggerete tutte le statue di getto, demolirete tutti i loro alti luoghi, prenderete possesso del paese, e in esso vi stabilirete, perché io vi ho dato il paese affinché lo possediate. Dividerete il paese a sorte, secondo le vostre famiglie, a quelle che sono più numerose darete una porzione maggiore, e a quelle che sono meno numerose darete una porzione minore. Ognuno possederà quello che gli sarà toccato a sorte, vi spartirete il possesso, secondo le tribù dei vostri padri, ma se non cacciate dinanzi a voi gli abitanti del paese, quelli di loro che vi avrete lasciato saranno per voi come spine negli occhi, e pungoli nei fianchi, e vi faranno tribolare nel paese che abiterete, e avverrà che io tratterò voi come mi ero proposto di trattar loro. L'Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo, Dà quest'ordine ai figlioli di Israele e di loro. Quando entrerete nel paese di Canaan, questo sarà il paese che vi toccherà come eredità, il paese di Canaan di cui ecco i confini. La vostra regione meridionale comincerà al deserto di Zin, vicino a Edom, così la vostra frontiera meridionale partirà dall'estremità del Marsalato, verso oriente, e questa frontiera volgerà a sud della salita di Akrabin, passerà per Zin, e si estenderà a mezzogiorno di Cades Barnea, poi continuerà verso Atza-Adad e passerà per Atzmon. Da Atzmon la frontiera girerà verso il torrente d'Egitto e finirà al mare. La vostra frontiera occidentale sarà il mare grande. Quella sarà la vostra frontiera occidentale. E questa sarà la vostra frontiera settentrionale. Partendo dal mare grande, la traccerete fino al monte Or. Dal monte Or la traccerete fin là dove si entra in Armat, all'estremità della frontiera sarà a Sedad. La frontiera continuerà fino a Zifron, per finire a Azzar-Enan. Questa sarà la vostra frontiera settentrionale. Traccerete la vostra frontiera orientale da Azzar-Enan a Scefan. La frontiera scenderà da Scefan verso Ribla a oriente di Ahim, poi la frontiera scenderà e si estenderà lungo il mare di Chimeret a oriente, poi la frontiera scenderà verso il Giordano e finirà al mare salato. Tale sarà il vostro paese con le sue frontiere tutto intorno. Mosè trasmise quest'ordine ai figlioli di Israele e disse loro, questo è il paese che vi distribuirete a sorte e che l'Eterno ordinato si dia a nove tribù e mezzo, poiché le tribù dei figlioli di Ruben secondo le case dei loro padri, la tribù dei figlioli di Gat secondo le case dei loro padri e la mezza tribù di Menasse hanno ricevuto la loro porzione. Queste due tribù e mezzo hanno ricevuto la loro porzione di qua dal Giordano di Gerico, dal lato orientale. E l'Eterno parlò a Mosè dicendo, questi sono i nomi degli uomini che spartiranno il paese fra voi, il sacerdote Eleazar e Giosuè figliuolo di Num. Prenderete anche un principe di ogni tribù per fare la spartizione del paese. Ecco i nomi di questi uomini, per la tribù di Giuda, Caleb figliolo di Ghefunne, per la tribù dei figlioli di Simeone, Samuele figliolo di Ammihud, per la tribù di Beniamino, Elidad figliolo di Kislom, per la tribù dei figlioli di Dan, il principe Buki figliolo di Ogli, per i figlioli di Giuseppe, per la tribù dei figlioli di Menasse, il principe Aniel figliolo di Efod, e per la tribù dei figlioli di Efraim, il principe Chemuer figliolo di Shifitam, per la tribù dei figlioli di Zabulom, il principe Elitzafam figliolo di Parnaca, per le tribù dei figlioli di Issacar, principe Partier figliolo di Ezzam, per la tribù dei figlioli di Asher, principe Ahihud figliolo di Shilomi, e per la tribù dei figlioli di Neftali, il principe Pedahel figliolo di Ammihud. Queste sono le persone alle quali l'Eterno ordinò di spartire il paese di Canaan fra i figlioli di Israele. Numeri capitolo trentacinquesimo L'Eterno parlò ancora a Mosè nelle pianure di Moa presso il Giordano di Faccia Gerico, dicendo Ordina i figlioli di Israele che dell'eredità che possederanno diano ai Leviti delle città da abitare. Darete pure ai Leviti il contado che è intorno alle città, ed essi avranno le città per abitarvi, e il contado servirà per i loro bestiami, per i loro beni, e per tutti i loro animali. Il contado delle città che darete a Leviti si estenderà fuori per lo spazio di mille cubiti dalle mura della città tutto intorno. Misurerete dunque fuori della città duemila cubiti dal lato orientale, duemila cubiti dal lato meridionale, duemila cubiti dal lato occidentale, duemila cubiti dal lato settenzionale. La città sarà in mezzo. Tale sarà il contado per ciascuna delle loro città. Tra le città che darete ai Leviti ci saranno le sei città di rifugio che voi designerete perché vi si rifugi l'omicidia e a queste aggiungerete altre 42 città. Tutte le città che darete ai Leviti saranno dunque 48 con relativo contado. E di quelle città che darete ai Leviti prendendole dalla proprietà dei figlioli di Israele, ne prenderete di più da quelle che hanno di più e di meno da quelli che hanno di meno. Ognuno darà delle sue città ai Leviti in proporzione dell'eredità che gli sarà toccata. Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo Parla ai figlioli di Israele di loro. Quando avrete passato il Giordano e sarete entrati nel paese di Cana designerete delle città che siano per voi delle città di rifugio dove possa ricoverarsi l'omicida che verrà ucciso qualcuno involontariamente. Queste città vi serviranno di rifugio contro il vindice del sangue affinché l'omicidio non sia messo a morte prima di essere comparso in giudizio dannanzi alla radunanza. Delle città che darete vi saranno dunque per voi delle città di rifugio. Darete tre città di qua dal Giordano e darete tre altre città nel paese di Cana e saranno città di rifugio. Queste sei città serviranno di rifugio ai figlioli di Israele, allo straniero e a colui che soggiornerà fra voi finché vi scampi chiunque abbia ucciso qualcuno involontariamente. Ma se uno colpisce un altro con uno strumento di ferro sì che quello ne muoia quel tale è omicida e l'omicidio dovrà essere punito di morte. Se lo colpisce con una pietra che aveva in mano atta a causare la morte e il colpito muore quel tale è un omicida e l'omicidio dovrà essere punito di morte. O se lo colpisce con uno strumento di legno che aveva in mano atto a causare la morte e il colpito muore quel tale è un omicida e l'omicida sarà punito di morte. Sarà il vindice del sangue quelli che lo metterà a morte quando lo incontrerà e lo ucciderà. Se uno dà a un altro una spinta per odio o gli getta contro qualcosa con premeditazione sì che quello ne muoia o lo colpisce per inimicizia con la mano sì che quello muoia colui che ha colpito dovrà essere punito di morte è un omicida. Il vindice del sangue ucciderà l'omicida quando lo incontrerà ma se gli dà una spinta per caso e non per inimicizia e gli getta contro qualche cosa senza premeditazione o senza vederlo gli fa cadere addosso una pietra che possa causare la morte e quello ne muore senza che l'altro gli fosse nemico o gli volesse fare del male allora ecco le norme secondo le quali la radunanza giudicherà fra colui che ha colpito e il vindice del sangue. La radunanza libererà l'omicidia dalle mani del vindice del sangue e lo farà tornare alla città di rifugio dove si era ricoverato qui vi dimorerà fino alla morte del sommo sacerdote che fu unto con olio santo ma se l'omicidia esce da confini della città di rifugio dove si era ricoverato e se il vindice del sangue trova l'omicidia fuori dai confini della società di rifugio e l'uccide il vindice del sangue non sarà responsabile del sangue versato poiché l'omicidia deve stare nella sua città di rifugio fino alla morte del sommo sacerdote ma dopo la morte del sommo sacerdote l'omicidia potrà tornare nella terra della sua proprietà queste vi servano come norme di diritto di generazione in generazione dovunque dimorerete se uno uccide un altro l'omicida sarà messa a morte in seguito a disposizione di testimoni ma un unico testimone non basterà per far condannare una persona a morte non accetterete prezzo di riscatto per la vita di un'omicida colpevole e degno di morte perché dovrà essere punito di morte non accetterete prezzo di riscatto che permetta un'omicida di ricoverarsi nella società di rifugio e di tornare ad abitare nel paese prima della morte del sacerdote non contaminerete il paese dove sarete perché il sangue contamina il paese e non si potrà fare per il paese alcuna espiazione del sangue che vi sarà stato sparso se non mediante il sangue di colui che l'avrà sparso non contaminerete dunque il paese che andate ad abitare e in mezzo al quale io dimorerò poiché io sono l'Eterno che dimora in mezzo ai figliuoli di Israele numeri capitolo trentaseiesimo ora i capi della famiglia di Gala figliuolo di Machir figliuolo di Menasse e di tra le famiglie dei figliuoli di Giuseppe si fecero davanti a parlare in presenza di Mosè e dei principi capi di famiglia dei figliuoli di Israele e dissero l'Eterno ha ordinato al mio Signore di dare il paese in eredità ai figliuoli di Israele a sorte e il mio Signore ha pure ricevuto l'ordine dall'Eterno di dare l'eredità di Zolo Fehad nostro fratello alle figliuoli di lui se queste si maritano a qualcuno dei figliuoli delle altre tribù dei figliuoli di Israele la loro eredità sarà detratta dall'eredità dei nostri padri e aggiunta all'eredità della tribù nella quale esse saranno entrate così sarà detratta dall'eredità che ci è toccata a sorte e quando verrà il Giubileo per i figliuoli di Israele la loro eredità sarà aggiunta a quella delle tribù nella quale saranno entrate e l'eredità loro sarà detratta dall'eredità delle tribù dei nostri padri Mosè trasmise ai figliuoli di Israele questi ordini dall'Eterno dicendo la tribù dei figliuoli di Giuseppe dice bene questo è quel che l'Eterno ha ordinato riguardo alle figliuoli di Zelo Fehad si mariteranno e che vorranno perché si maritano in una delle famiglie delle tribù dei loro padri cosicché nessuna eredità tra i figlioli di Israele passerà da una tribù all'altra poiché ciascuno dei figlioli di Israele si terrà stretto all'eredità delle tribù dei suoi padri e ogni fanciulla che possiede un'eredità in una delle tribù dei figlioli di Israele si mariterà a qualcuno della famiglia della tribù di suo padre affinché ognuno dei figlioli di Israele possenga l'eredità dei suoi padri così nessuna eredità passerà da una tribù all'altra ma ognuna delle tribù dei figlioli di Israele si terrà stretta alla propria eredità le figlioli di Zelo Fahed si conformarono all'ordine che l'Eterno aveva dato a Mosè ma Alat Tishad Ogla Mika Noa le figlioli di Zelo Fahed si maritarono coi figlioli dei loro zii si maritarono nelle famiglie dei figlioli di Menasse figlioli di Giuseppe e la loro eredità rimase nella tribù della famiglia del padre loro tali sono i comandamenti le leggi che l'Eterno dette figlioli di Israele per mezzo di Mosè nelle pianure di Moab presso a Giordano di faccia a Gerico di Moab di Moab di Moab di Moab di Moab